Ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno reso possibile questa serata, ringrazio voi che siete qui. Quindi allora mi è stato chiesto di fare una cosa che non mi piace, quella di parlare di me, farò rapidissimo. Io ho tradotto l'ebraico della Bibbia Stuttgartensia, che sarebbe insomma il codice masoretico, per conto delle edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento con la mia traduzione, gli incarichi prevedevano libro per libro che io facessi traduzione letterale e poi dal 2010 ho iniziato a raccontare diciamo così ciò che mi pare di leggere veramente nei codici ebraici. Ovviamente il rapporto di lavoro si è interrotto immediatamente, in 30 secondi, e quindi dal 2010 sto andando avanti a raccontare, sto scrivendo i libri. Quindi tra l'altro adesso qui, stasera ci sono tutte e due le case editrici, quindi qui c'è Mondadori e là c'è uno editori. Mondadori, l'ultimissimo lo ritroverete in libreria perché tutte le coppie che sono state portate sono già finite. Questo qui è quello precedente e comunque voglio dire i due sono in successione, quindi perché qui per Mondadori sto facendo uno studio particolare che è l'analisi parallela tra Bibbia e testi greci e nell'ultimo ho inserito anche Tacito, Plignol Vecchio, Eliodoro, Strabone eccetera e quindi in questi libri Mondadori c'è un percorso particolare che è diverso da quello fatto con uno editori e quindi insomma ci sono le due possibilità. Quindi la sostanza è questa, tutto quello che vi racconto deriva da. Però io ormai è un po' di tempo che quando faccio le conferenze faccio un patto con il pubblico e il patto è questo, quindi lo faccio anche con voi questa sera. Se ad un certo punto, in qualsiasi momento, voi vi accorgete che io vi sto dicendo che la Bibbia non va tradotta così, ma va tradotta cosà e in questo cosà inserisco delle mie traduzioni, per cortesia fermatemi. Va bene? Cioè mi fermate, alzate la mano e mi dite no, tu ci stai dicendo come va tradotta secondo te e mi fermate. Perché quello che mi interessa far capire è che non c'è neppure bisogno delle traduzioni particolari. Basta leggerla. E quindi c'è qualcuno che l'ha portata? Ok. Quindi leggeremo la Bibbia che abbiamo in casa. Ok? Perché si capisce già tutto di lì. Il problema grosso è che noi non la leggiamo. Perché se la leggessimo, non ci sarebbe neanche bisogno di fare queste conferenze. Perché abbiamo tutti l'intelligenza per capirla. Tutti. Tutti. Basta leggerla. Ovviamente bisogna leggerla con quel po' di mente aperta che ci consente di accostarci a quel libro senza i filtri ai quali siamo abituati. E quindi per questo vi dico, se vi accorgete che io sto cercando di introdurre delle traduzioni mie, mi fermate. Va bene? Poi, chi vuole le traduzioni mie le trova nei libri. Ovviamente. Però, non voglio farlo nelle conferenze, così almeno, diciamo, lanciamo un messaggio diverso. Non un messaggio che appunto la Bibbia può essere capita già così com'è. Senza problemi. Tra l'altro ho cominciato bene la serata perché mi hanno portato a mangiare al Darmagi. E devo dire che è stato un vero Darmagi che poi dovessi parlare, perché lì bisognava star seduti e mangiare e bere per tutta la sera. Ah, vabbè, dico per le 50, 60 o 100 mila persone che vedranno la conferenza in rete qui in Piemonte, Darmagi vuol dire un peccato. Quindi è stato un vero peccato che dovessi parlare, quindi ho dovuto contenermi. Vabbè, pazienza, sarà per un'altra volta. In questi giorni ormai ho una sorta di riflesso pavloviano, sapete i riflessi pavloviani per i cani, no? Che sbavano quando sentono, no? Si crea questo riflesso condizionato. E il riflesso che io ho è nei confronti di Papa Francesco. Nel senso che quando lo sento fare certe affermazioni, mi viene veramente immediato di fare questa considerazione. È veramente fortunato. È veramente fortunato perché può dire ciò che vuole, perché tanto la gente non legge la Bibbia. in questi giorni ha detto fare le guerre in nome di Dio è satanico. Allora se c'è un libro che è satanico è l'Antico Testamento che racconta solo di guerre fatte in nome di Dio. Perché poi se si fanno certe affermazioni bisogna avere il coraggio di portarle fino in fondo. L'Antico Testamento è un libro di guerra dove c'è un non semita poi magari scriviamo alcune cose e lo capiamo meglio ma tanto per lanciare i concetti di base un non semita che si chiama Yahweh al quale è stata affidata una famiglia non un popolo, non un popolo non il popolo degli ibrei una famiglia quando leggerete la Bibbia lo vedrete una famiglia che poi noi conosciamo come la famiglia degli israeliti e lui con questa famiglia ha passato il tempo a cercare di sterminare altre famiglie di semiti di parenti stretti di quella famiglia cugini, zii e nipoti la Bibbia non è nient'altro che il racconto di continui tentativi di sterminio cioè di guerre fatte in nome di Dio per fortuna non è Dio ma siccome per la dottrina quello è il Dio padre se fare le guerre in nome di Dio è satanico la Bibbia è satanica su questo non ci sono dubbi e quando noi sentiamo parlare della barbarie adesso le guerre sante ecco la Bibbia non è altro che una successione di guerre sante ma addirittura nella Bibbia qui di famiglia cristiana ci sono delle guerre di sterminio che sono chiamate con il titolo la guerra santa contro i madianiti ma che differenza c'è tra le guerre sante descritte qui e le guerre sante che si fanno oggi? nessuna nessuna cioè è inutile che ci illudiamo la radice è la stessa bisogna che la capiamo noi poi per fortuna nella nostra evoluzione nei secoli siamo arrivati ad avere delle leggi laiche che impediscano che si applichino queste leggi religiose l'islam non ha questa distinzione tra leggi laiche e leggi religiose come non c'era qui e quindi non c'è nessuna distinzione ma non c'è veramente nessuna distinzione non è che queste sono leggi guerre sante e quelle di oggi sono guerre barbare no no era esattamente la stessa cosa d'altra parte se noi riflettiamo un attimo al di là delle traduzioni prima ancora delle traduzioni tutti noi siamo più o meno stati educati e cresciuti dentro questa religione occidentale che è il cristianesimo questa religione ha la sua radice nell'antico testamento l'antico testamento è un insieme di libri di cui non sappiamo nulla cioè salvo avere dei codici scritti nei quali ci sono scritte delle cose noi non sappiamo nulla cioè noi non sappiamo chi li ha scritti non sappiamo quando li ha scritti non sappiamo come fossero scritti in origine non sappiamo come fossero letti cioè noi non sappiamo nulla la cosa curiosa è che quando appunto si parla come appunto insomma tutte le cose che mi stanno succedendo attorno in questi sei anni dice ogni volta che uno parla dice ah le fonti dammi le fonti dico ma se voi siete così preoccupati delle fonti prendete l'antico testamento e buttatelo nel cassonetto della raccolta della carta perché l'antico testamento è un libro senza fonti quindi se voi date questa importanza vitale alle fonti buttate via quel libro perché io quantomeno un pochettino le fonti delle cose che dico le do ma se io chiedo ai teologi dammi le fonti della Bibbia nessuno me le può dare perché non esistono non sappiamo chi l'ha scritta sappiamo solo che l'hanno scritta decine 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 di persone nel corso di moltissimi secoli l'unica certezza che abbiamo ed è dichiarata dai biblisti israeliani docenti nelle università di israele è che la Bibbia che leggiamo noi oggi non è quella scritta in origine perché ogni volta che la riscrivevano la cambiavano questa è l'unica certezza che abbiamo tant'è che ogni volta che abbiamo la possibilità di fare dei raffronti tra il codice masoretico che è quello da cui diciamo sostanzialmente dipendono le Bibbie che abbiamo in casa e codici più antichi come quelli di Qumran vediamo centinaia di varianti centinaia ma anche all'interno di uno stesso libro per esempio nel libro di Isaia ci sono almeno 300 varianti ma lo stesso libro di Isaia noi non sappiamo chi l'ha scritto cioè non pensiamo di dire sappiamo che l'ha scritto Isaia no c'era una persona prima che mi diceva che lavorava alla LDC casa editrice cattolica che ha pubblicato una corposissima enciclopedia sulla Bibbia scritta tutta soltanto da docenti della Chiesa quindi diciamo l'ha pubblicata molti anni fa è un'enciclopedia per specialisti nel senso che è difficile trovarla nelle case non nelle case si trovano enciclopedie quelle insomma molto più carine più facili da leggere ma lì in quell'enciclopedia c'è scritto per esempio per il libro di Isaia e chi la scrive era il presidente della commissione pontificia biblica eccetera scrive il professor Penna e scrive noi i primi 39 libri del libro capitoli del libro di Isaia li attribuiamo a Isaia perché non abbiamo motivi seri per negarlo capite? non perché sappiamo che l'ha scritti lui i capitoli dal 40 al 55 li attribuiamo a uno che chiamiamo artificiosamente Deutero Isaia perché non sappiamo chi è ma sappiamo ma sappiamo che sono stati scritti due secoli dopo il primo e gli ultimi capitoli li attribuiamo a uno che chiamiamo artificiosamente Trito Isaia perché non sappiamo chi è e che ha scritto alcuni decenni dopo il secondo cioè il libro di Isaia nella migliore dell'ipotesi è stato scritto nella migliore dell'ipotesi è stato scritto da tre individui che hanno scritto nell'arco di 250 anni come facciamo a dire che quello è il libro di Isaia? come facciamo a dirlo? eppure è ciò che tutti noi crediamo ma non è così ed è scritto nelle enciclopedie cattoliche solo che ovviamente noi non leggiamo la Bibbia meno che mai ovviamente l'enciclopedia è scritta dagli studiosi ma è così e vale per tutti i libri non c'è una riga una di cui possiamo dire con certezza sappiamo che l'ha scritta quello lì ma non soltanto dell'Antico Testamento attenzione anche del Nuovo Testamento cioè non pensiate che i Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni siano stati scritti da Matteo, Marco e Luca e Giovanni non lo sa nessuno è la tradizione che lo dice ma non lo sa nessuno ci sono migliaia di codici evangelici diversi non sto parlando degli apocrifi sto parlando di quelli riconducibili ai canonici ma non ce ne sono due uguali cioè non ci sono due codici uguali quindi la radice di questa religione è questa qui va bene? poi voglio essere buono, 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 buono questa religione viene predicata quindi con tutte le sue verità che devono essere verità di fede e quindi verità come dire indiscutibili da una struttura gerarchica che a essere buono, 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 buono nel 90% dei casi non conosce la lingua nella quale quel libro è stato scritto papi, cardinali, vescovi, teologi catechisti, sacerdoti, parruci non conoscono la lingua nella quale quel libro è stato scritto e quindi predicano sulla base di traduzioni la cosa che a me è stata detta in questi anni ah ma tu che traduci tu lo sai che ogni traduzione in realtà è un tradimento benissimo ma se questo assunto è vero non vale solo per me vale anche per voi e se ogni traduzione è un tradimento voi state predicando una religione sulla base di tradimenti perché non conoscete la lingua nella quale quel libro è stato scritto e questa è un'altra cosa indiscutibile poi c'è qualcuno che dirà no ma c'è anche una Bibbia scritta in greco certo la Bibbia dei 70 che è stata scritta in Egitto nel terzo secolo avanti Cristo sapete cosa dicono gli ebrei di quella Bibbia lì? che è una disgrazia per l'umanità quella Bibbia lì è il fondamento della religione greco-ortodossa quindi i cristiani greco-ortodossi basano la loro credenza su una Bibbia che per gli ebrei è una disgrazia per l'umanità non sono d'accordo su niente i cristiani hanno i cattolici, perdon hanno un certo numero di libri antico-testamentari un po' più di 40 che sono considerati veri gli ebrei ne hanno la metà che considerano veri i protestanti sono d'accordo con gli ebrei quindi in disaccordo con i cattolici se noi prendiamo la Bibbia dei samaritani invece di avere più o meno la ventina di libri veri per gli ebrei di veri ne considerano sei e i samaritani dicono noi siamo i custodi della Torah se noi prendiamo i cristiani copti considerano veri più o meno i libri considerati veri dagli ebrei più altri libri che non sono veri né per gli ebrei né per i cristiani di Roma ognuno si è fatto la sua Bibbia e non c'è nessuno al mondo che possa dire quella vera è quella lì ognuno creda a quello che vuole e ognuno si sente dire tu hai la fortuna di essere nato nel posto giusto cioè tu hai la fortuna di essere nato nel posto dove si conosce la Bibbia vera ma tutti se lo sentono dire e noi crediamo veri quei libri lì perché siamo nati qui se fossimo nati nel corno d'Africa ci sentiremmo dire che il libro etiopico di Enoch è vero mentre qui ci sentiamo dire che è falso se noi fossimo nati in Israele ci sentiremmo dire che i libri veri sono solo un certo numero se fossimo nati un pochettino più a nord della Giudea cioè in Samaria ci sentiremmo dire che i libri veri sono sei questa è la base e ripeto chi la predica nel 90% dei casi non conosce la lingua nella quale è stato scritto e quindi predica sulla base di traduzioni e le traduzioni sono in continuo mutamento sono cambiate nei secoli stanno cambiando e vi garantisco che cambieranno ancora e stasera vediamo alcune cose delle quali faccio una previsione ci sono delle parole che scompariranno dalla Bibbia nei prossimi anni ma sono parole fondamentali adesso poi le vediamo quindi non sappiamo nulla dei testi testi privi di fonti vengono predicati da chi non conosce la lingua nella quale sono stati scritti un miliardo e duecento su un miliardo e duecento un miliardo e trecento milioni di cristiani anche qui voglio essere buono un miliardo e cento milioni crede ciecamente in ciò che ci sarebbe scritto in un libro che non ha mai letto è vero o non è vero ora se invece di parlare del cristianesimo che è una potenza mondiale forse la potenza mondiale noi stessimo parlando di una setta di duecento persone dove c'è un guru che predica sulla base di testi di un testo di cui non si sa nulla che ha sotto di lui una decina di suoi collaboratori che non conoscono la lingua nella quale è stato scritto quel testo ma predicano e poi ha 160 180 discepoli che credono ciecamente in ciò che loro dicono senza aver mai letto quel testo noi che cosa diremmo? che quelli vanno fermati oppure no? questo è il cristianesimo cioè bisogna avere il coraggio di dirlo e non c'entrano le traduzioni poi le traduzioni adesso le vediamo ma non c'entrano le traduzioni questa è la situazione ma è vera o non è vera questa situazione? quanti di voi hanno letto l'antico testamento pur essendo cresciuti in un ambito cristiano? tutto? uno? due? tutto? bene avete visto quante mani si sono alzate? e normalmente normalmente crediamo si crede in quel libro lì che viene predicato da persone che non conoscono e viene predicato a pezzi accuratamente scelti da persone che non conoscono la lingua nella quale è stato scritto questo è il dato di fatto poi di qui in avanti poi si possono fare ovviamente tutti i ragionamenti possibili immaginabili che si vogliono ma questa è la partenza allora per questo io dico che il Papa è molto fortunato perché il Papa dice tra le altre cose appunto fare la guerra in nome di Dio è blasfemia è satanico Giosuè capitolo 10 in quel giorno Giosuè prese Macchedda la votò allo sterminio con tutti i suoi abitanti come aveva ordinato Yahweh poi Giosuè fece a Macchedda ciò che aveva fatto a Libna passò a fil di spada tutti quelli che vi abitavano non mi lasciò alcun superstite poi Yahweh mise anche l'Achis in potere di Israele ed egli passò a fil di spada tutti i suoi abitanti così Giosuè conquistò tutta la regione la montagna il Negev non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente come aveva ordinato Dio allora se fare le guerre in nome di Dio è satanico questo è un libro satanico eh altrimenti ci prendiamo in giro perché quegli stessi che dicono che fare le guerre in nome di Dio è satanico dicono che qui c'è il Dio padre e se c'è il Dio padre questo è un libro satanico non stiamo parlando di filologia di esegesi stiamo facendo dei ragionamenti che possiamo fare tutti 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 in assoluta semplicità perché abbiamo tutti la stessa intelligenza e quando la leggerete di robe del genere ne troverete continuamente perché la Bibbia racconta questo noi dobbiamo sterminare quelli là perché dobbiamo metterci là dove stanno quelli punto finito non c'è nient'altro e quando avrete voglia di leggerla e poi leggerete senza filtri i salmi vedrete che i salmi sono canti di guerra canti nei quali una famiglia celebra se stessa e il suo comandante contro gli altri e quando nei salmi si parla di salvezza si parla di salvezza di quella famiglia rispetto ai nemici poi tutto questo è stato preso dalla teologia e trasfigurato trasmesso trasportato in quel mondo metafisico che la teologia ha elaborato e inventato ma nella Bibbia quel mondo non c'è proprio non c'è quando dico che non c'è questa è una cosa che ripeto sempre io non dico che Dio non esiste non dico che i mondi spirituali non esistono perché io dei mondi spirituali non so nulla io di Dio non so nulla e quindi mi guardo bene dal parlarne non chiedete a me se Dio esiste o non esiste perché non lo so non chiedete a me la verità perché io la verità non ce l'ho non ce l'ho neanche per me figuriamoci se la posso proporre a qualcun altro io vi dico solo questo libro di quella roba lì non parla punto come non ne parlano tutti gli altri libri dell'antichità questo purtroppo è finito nelle mani dei teologi i teologi dovrebbero occuparsi di teologia infatti ogni tanto Sardegna Liguria qualche teologo molto un po' arrabbiato sia Loano sia Olbia sì forse Olbia mi ricordo no no vicino a Cagliari che mi ha detto ah lei dice solo cazzate perché io ho studiato teologia bene lei ha studiato teologia io invece studio la Bibbia anche con la teologia non c'entra niente tutto lì ed è una differenza sostanziale 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 perché se voi leggete anche gli studi degli ebrei pubblicati anche in rete nella lingua ebraica non c'è neppure il termine che indica Dio non c'è nella lingua ebraica non c'è il verbo che indica creare creare da nulla poi non parliamone cioè i concetti fondamentali adesso poi li vediamo non ci sono tant'è che per poter far dire alla Bibbia ciò che non dice bisogna introdurre le categorie esegetiche interpretative dell'allegoria della metafora e qui veramente andiamo proprio oltre perché allora è un libro di cui non sappiamo chi l'ha scritto non sappiamo quando l'ha scritto non sappiamo come fosse scritto non sappiamo come fosse letto sappiamo solo che quello che leggiamo noi non è uguale a quello scritto in origine però pretendiamo di sapere che quelli che l'hanno scritto che non sappiamo chi sono quando scrivevano una cosa ne volevano dire un'altra e guarda caso quell'altra cosa è quella che interessa i teologi leggo costantemente perché potete immaginare tutte le robe che mi arrivano quelli che seguono un po' le mie vicende in rete sanno no si sono dicendo ah ma c'è teologi che dicono ma la Bibbia è al 50% letterale al 50% allegorica allora ci mettiamo lì e diciamo questo sì questo no questo sì questo no questo sì questo no chi lo fa questo? nessuno lo deve fare perché chi lo fa lo fa in base alle sue idee allora io sono anni che faccio finta e lo dichiaro dico facciamo finta che quando gli autori biblici che non sappiamo chi fossero scrivevano una cosa volessero dirci quella perché una cosa è certa quella ce l'hanno detta perché è lì scritta quella l'hanno detta il resto cioè che cosa volevano dire sta nelle menti nostre nel senso che ognuno di noi è libero di pensare ah ma quando ha scritto quello voleva dire che beh questa è una cosa che pensi tu la realtà è che è che ha scritto quello di lì in avanti è interpretazione personale che ovviamente lecita ci mancherebbe poi ognuno ha la sua fede quindi è libero e doverosamente la deve seguire ci mancherebbe però attenzione non possiamo dire no ma quello che c'è scritto non vale perché volevano dire altro no quello che c'è scritto intanto è scritto quel che volevano dire è opinabile quello che è scritto non è opinabile è lì e quando qui c'è scritto li hanno passati tutti a fil di spada vuol dire che li hanno passati tutti a fil di spada e quando la leggerete scoprirete anche che quando dovevano distruggere una di queste famiglie il re Saul che distrugge diciamo il popolo degli Amalekiti figli discendenti del fratello gemello di Giacobbe quindi non nemici fratello gemello di Giacobbe beh lui è uomo buono e giusto perché li stermina tutti sapete perché viene punito? perché salva il re e sapete perché salva il re? perché era un maschio bello allora Dio lo punisce perché lui ha tenuto in vita uno questa è la morale della Bibbia cioè se Dio ti ordina li uccidi tutti a partire dalle donne e dai bambini tu sei uomo buono e giusto se li uccidi tutti se ne tieni in vita uno perdi il regno perché Dio ti punisce perché hai tenuto in vita un uomo leggetela la Bibbia non fidatevi delle cose che vi dico leggetela quando il Papa dice e questo non lo dice soltanto il Papa ma lo riprende molto spesso perché l'amore di Dio o la miscordia di Dio è eterna questa è una cosa che viene ripetuta ed è nei salmi è nei salmi salmo 136 questa cosa qui perché è eterno il suo amore è detta un sacco di volte nel salmo 136 però bisognerebbe che quando come ha fatto a Pasqua il Papa di fronte al popolo dice perché la misericordia di Dio è eterno sapete che ha scritto un libro non il nome di Dio è misericordia tra l'altro quando leggerete la Bibbia quando trovate la misericordia di Dio per cortesia segnalatemela però dovete essere certi di averla trovata perché eterno è il suo amore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no insomma già qui è scritto quasi 20 volte e va bene quindi eterno è il suo amore egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti perché è eterno il suo amore fece uscire Israele di mezzo a loro perché è eterno il suo amore con mano forte e braccio disteso perché è eterno il suo amore travorse il Faraone e il suo esercito nel mare perché è eterno il suo amore colpì grandi re perché è eterno il suo amore uccise re potenti perché è eterno il suo amore diede la loro terra in eredità perché è eterno il suo amore in eredità a Israele suo servo perché è eterno il suo amore. L'amore di Dio è eterno perché uccide i nemici di Israele e dà le loro terre a Israele. Questo è scritto, questa è la Bibbia di famiglia cristiana, non le mie traduzioni. Allora quando si dice perché è eterno il suo amore si cita al Salmo 136, bisognerebbe alzare la mano e dire no ma scusa, ma me lo spieghi? E tutti noi che, anche chi non ha letto la Bibbia conosce la vicenda dell'uscita dall'Egitto con l'attraversamento del Mar Rosso. A proposito di traduzioni che sono dei tradimenti, l'uscita attraverso il Mar Rosso viene presentata come un grande colossale miracolo di Dio. Peccato che nella Bibbia ci sia scritto che hanno attraversato lo Yam Suf, cioè il mare di Canne, un canneto, non il Mar Rosso. E chi non conosce la lingua predica l'attraversamento del Mar Rosso, sapete con i due muri di acqua, i vecchietti come me ricordano dieci comandamenti, certo onesto, qualcuno lo ricorda. E quella roba lì non esiste, non esiste. Hanno attraversato un canneto e la Bibbia nomina tre volte quell'attraversamento lì e tutte le tre volte c'è lo Yam Suf e se c'è qualche ebreo tra di voi ci dirà cosa vuol dire Yam Suf? Mare di Canne. Ma quelli che lo predicano e che non conoscono la lingua, predicano l'attraversamento del Mar Rosso come grande miracolo di Dio, che non c'è, perché non c'è nella Bibbia. Tant'è che se voi prendete le Bibbie tradotte dagli ebrei troverete il Mare di Canne, non Mar Rosso. Non sono traduzioni mie. Troverete Mare di Canne. Capite? Quindi, quando si parla di queste cose qui, si parla appunto di una struttura che predica la Bibbia sulla base di questi tipi di, diciamo così, di traduzioni. Ma traduzioni che diventano ancora più problematiche se si va ad esaminare i concetti fondamentali. Perché tutte le volte che ci si parla, che ci viene parlato, ci viene predicato l'Antico Testamento e ci viene predicato Dio, ovviamente di che cosa si parla? Del Dio eterno. Tant'è che addirittura il nome Yahweh, che è un nome che sarebbe bene non tradurre perché non c'è nessuna certezza sul significato di quel nome. Quindi la cosa più corretta sarebbe lasciarlo così. Molto spesso nella Bibbia lo trovate tradotto con eterno. Cioè sappiate che quando nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto l'eterno, in ebraico c'è Yahweh. Ok? Non c'è l'eterno, c'è Yahweh. Tutte le volte che trovate, e c'è 91 volte, tutte le volte che trovate il termine eternità, nella Bibbia c'è il termine ebraico Olam. Olam viene sempre tradotto con eternità. Chi vuole venire qui dalla prima fila? Magari il sindaco? Questo è il dizionario di ebraico e ramaico biblici della società biblica britannica. Al termine Olam, questa è la versione italiana, prego. Al termine Olam, che viene tradotto con eternità, c'è scritto nel dizionario. Con eternità. Grazie. È scritto nei dizionari. Non tradurre con eternità. Come lo trovate tradotto? Eternità. tutte le volte. Ma questa roba qui non è scritta soltanto nel dizionario qui, poi leggiamo che cosa hanno detto i teologi il 6 marzo a Milano. È scritto ovunque. Ma chi vi predica la Bibbia vi parla di eternità nell'Antico Testamento. Ma l'eternità non c'è. Non c'è neppure il termine. È scritto nei dizionari che non c'è. Perché viene sempre tradotto con eternità? Perché siccome la Bibbia deve parlare di Dio, secondo le idee che i teologi elaborano su Dio, Dio è eterno. Dunque l'eternità da qualche parte ci deve essere. È solo che non c'è. Non c'è perché la Bibbia non parla di Dio. Dopodiché Dio esiste, Dio esiste. Io non ho niente da dire, ma ci mancherebbe. Questo riguarda la fede. La cosa non mi compete. Non mi compete. Vi dico soltanto la Bibbia non ne parla. E non c'è neppure il termine eternità. Ma voi lo trovate sempre tradotto con eternità. E chi ve lo predica, vi predica eternità. Io poi non so se chi ve lo predica questa roba qui la conosce oppure no. Se non la conosce, poverino, se la conosce è falso. Perché se la conosce non deve più parlarvi di eternità quando vi parla della Bibbia. Su questo non ci sono dubbi. Perché questo è scritto nei dizionari. Così come, se volete leggere una Bibbia, prendete la Bibbia di Gerusalemme, che è la Bibbia che ha tutta una serie di annotazioni della filologia dominicana, della Ecole d'Etudes Bibliques di Gerusalemme, che è una delle scuole filologiche più vecchie, nel senso che è fondata più o meno a metà del 1800, eccetera. E quindi voi avete nella Bibbia di Gerusalemme le traduzioni normali e poi avete delle note che sono estremamente interessanti. Allora, siccome la teologia dice che Dio esiste, e va bene, ok. Se Dio esiste è eterno, e va bene, ok. Che se Dio esiste è onnipotente, beh, allora onnipotente da qualche parte nella Bibbia ci deve essere. E se voi prendete, chi era che aveva la Bibbia? Possiamo prendere Genesi 17? Se voi prendete la Bibbia e leggete in Genesi 17, quando Abram ebbe 99 anni, il Signore, che è una delle traduzioni di Yahweh. Gli apparve e gli disse, io sono Dio l'Onnipotente. Ok? In ebraico c'è Nelle note della Bibbia di Gerusalemme. La traduzione onnipotente è inesatta. Il senso è incerto. Si è proposto Signore della montagna, ma sarebbe preferibile Signore della steppa. Allora, questo che si presenta ad Abramo, nella ipotesi più accreditata, gli dice, io sono il Signore della steppa. Voi che cosa trovate nelle Bibbie? Io sono Dio l'Onnipotente. Ma che non significa onnipotente, lo scrivono loro. E perché lo scrivono? Perché se c'è Dio, Dio deve essere per forza onnipotente. Eh, ma la Bibbia non parla di Dio, quindi non parla dell'Onnipotente. La Bibbia non parla di Dio, quindi non parla di eternità. Ma se nei dizionari c'è scritto non tradurre con eternità, la vogliamo smettere di tradurre con eternità? Visto che lo dite voi, non Mauro Biglino, che non conta nulla. Lo dite voi, lo scrivete nei dizionari. Io se devo cambiare una parola al libro Mondadori, scrivo all'editor e gli dico, senti lì, facciamo questa correzione, nella ristampa, togli e metti questa, e la ristampa esce con una nuova... Ci mettono dieci secondi a togliere l'eternità e a togliere Onnipotente dalla Bibbia. Ma sanno, lo scrivono nelle note, ma qui continuano a scrivere Onnipotente. Perché? Perché io capisco che se poi un fedele legge la Bibbia e trova io sono il Signore della steppa, dice no, momento, c'è qualcosa che non quaglia. Però, però, se uno legge tutta la Bibbia, capisce che il Signore della steppa quaglia e come, perché è coerente con tutto il resto. Invece Onnipotente non è coerente con niente, per lui col cavolo che è Onnipotente. Non è riuscito a mantenere una promessa una di quelle che aveva fatto. Altro che Onnipotente. Aveva i suoi colleghi che lo frenavano. Quindi lui ha fatto quel poco che è riuscito a fare. Pensate che all'inizio ad Abramo aveva promosso, io ti darò tutto il territorio che è tra i due grandi fiumi, cioè dal Nilo alle Eufrate. In secoli e secoli e secoli sono riusciti a conquistarsi qualche praticello e qualche montagnola in Canaan. Altro che dal Nilo alle Eufrate. Altro che Onnipotente. Era il Signore della steppa. Il Signore della steppa è coerente con tutta la Bibbia. Onnipotente è totalmente incoerente con tutto il resto che c'è scritto nella Bibbia. Totalmente incoerente. Il fatto è che noi non la leggiamo. Perché se la leggiamo ci chiediamo ma come fa questo qui essere così Onnipotente e poi... Eh non lo è, non c'è neppure. Non c'è neppure. E lo dicono loro che non c'è, non io. Allora togliamolo. Allora se in ebraico non c'è il termine che indica Dio, se non c'è il termine onnipotente, se non c'è il termine eternità, ma di che cosa stiamo parlando? Di un libro sul quale poi è stata fondata tutta la religione che conosciamo, che viene predicata da chi non conosce quella lingua, viene predicata a pezzi e viene creduta vera da chi non ha mai letto il libro. Questo è la realtà. E sono stati, devo dire, bravissimi perché veramente meritano veramente il Nobel per il controllo delle coscienze. Ma veramente, perché sono stupendi. Poi si capisce anche come mai per tutta una serie di secoli queste cose qui sono state imposte anche con la violenza, con la proibizione magari di possedere le traduzioni e quindi chi possedeva le traduzioni in lingue volgari le doveva consegnare al vescovo, perché poi c'è il rischio che qualcuno le capisca. No? C'è il rischio che chi le legge poi le capisca o comunque comincia a porsi delle domande. Però questo c'è. Capite? E lo dicono loro. Quando, facciamo così, il 6 marzo a Milano, adesso per fine mese verrà messa a disposizione gratuitamente la trascrizione di tutto l'incontro. La trascrizione è finita, adesso stanno facendo l'impaginazione, stanno mettendo una bella copertina, poi sarà messa gratuitamente a disposizione in rete. Questo incontro che c'è stato il 6 marzo a Milano con i teologi, quindi eravamo in cinque, c'era un sacerdote, docente di teologia alla facoltà di teologia dell'Italia del Nord, il rabbino capo della comunità ebraica di Torino e i rabbini, sapete, sono quelli che sono accreditati a studiare e spiegare la Bibbia, quindi accreditati ufficialmente. C'era un arcivescovo ortodosso e c'era uno dei più importanti biblisti italiani, che è un valdese, valdese che tra l'altro, abbiamo letto prima noi il Olam, è uno, il dottor Garrone, è uno dei firmatari, cioè uno di quelli che scrivono i dizionari di ebraico e ramaico biblico, quindi il dizionario di ebraico e ramaico biblici della società biblica britannica, uno degli autori è quello che era seduto alla mia sinistra. E quindi abbiamo affrontato alcuni temi fondamentali. All'inizio avevamo quattro domande uguali per tutti, con cinque minuti per rispondere, poi c'erano le domande del pubblico. La prima domanda era le certezze, non vi dico ovviamente almeno sotto certi aspetti, parlare di una evidenza rispetto alle nostre conoscenze su Dio. Quindi il credere in Dio sarebbe una sioma. Non abbiamo evidenze. Bene. Biblista valdese. Non posso dimostrare qual è la fonte della conoscenza, non posso dimostrarlo, ma se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata la voce di Dio. Se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata la voce di Dio. E i miei cugini fondamentalisti cattolici, che pensano di rendere un servizio a Dio divinizzando le scritture, fanno una idolatria della carta. Chiaro? Avete capito bene? Lo leggerete, se lo vorrete sarà a disposizione per tutti. Teologo cattolico, docente di teologia, vorrei dire in un modo un po' tagliente, che bisogna togliere la certezza su Dio. Perché se noi avessimo certezza di Dio, Dio non sarebbe. L'incontro poteva finire qui. Di qui in avanti, per me è stata tutta discesa. Cioè nel senso che qua ci abbiamo messo, io non mi sono impegnato per farlo perché faccio altro, ma un editore che ha organizzato questo incontro ci ha messo un anno e mezzo per trovare persone disponibili a venire a questo incontro. Un anno e mezzo. Perché volevamo esponenti alti. Tutti quelli che mi attaccano in rete, che si stanno inventando interpreti, esegeti, conoscitori della Bibbia che sparano di... No, volevamo gente accreditata. Insomma, è arrivata gente molto in alto. Le risposte sono state queste. La giornalista dice, ma allora non abbiamo certezze su Dio. La seconda domanda era, ma è invece certezze sulle traduzioni? Eh, anche lì. Perché sapete, vi ho detto prima, no? Che per far dire alla Bibbia cose che non dice, si introducono le categorie dell'allegoria e della metafora. E io dico, benissimo. Allora, se l'allegoria e la metafora sono categorie da utilizzare, prendiamo il primo versetto della Genesi, in principio Dio creò i cieli e la terra, non vuol dire questo, ma in principio Dio creò i cieli e la terra, e quella è chiaramente un'allegoria, no? Cioè, siccome quei popoli non conoscevano come non conosciamo noi, ancora, come sia venuto all'esistenza l'universo, si sono inventati l'allegoria di uno che l'ha creato. Ah no, no, quello è vero, quello è letterale. No, momento, momento. Chi è che stabilisce se un versetto è letterale o allegorico? Datemi la regola, perché se io sono un fedele e mi voglio leggere la Bibbia, visto che la Bibbia sarebbe il libro che Dio ha dettato per raggiungere me, allora datemi la regola. E il fatto è che la regola non c'è. E quindi sono loro che di volta in volta stabiliscono ciò che fa comodo a loro leggere in modo letterale o leggere in modo allegorico. E allora abbiamo parlato di questo. E il rabbino capo, il dottor Ariel di Porto. Beh, il primo verso della Genese è molto problematico, perché se voi leggete l'interpretazione che ne è stata data, troverete tutto il contrario di tutto. Le indicazioni sui brani da leggere in modo allegorico derivano quindi dalla tradizione rabbinica. Cioè, di nuovo, c'è qualcuno che ci dice, questo qui lo devi leggere in modo letterale e questo qui lo devi leggere in modo allegorico. Il biblista valdese. Allora, senza dubbio, al minuto 48 e 39 secondi, allora senza dubbio, qui non ho dubbi, la Bibbia non va letta allegoricamente se prendiamo l'allegoria nel senso tecnico, cioè come è stata usata a lungo nella tradizione della Chiesa. Non va letta allegoricamente. Sono d'accordo, sono sei anni che dico, facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto e vediamo che cosa ne viene fuori. Dunque l'allegoria è liquidata. La Bibbia va letta per quello che è scritto. Fantastico. Ci metto la firma. La Bibbia va letta per quello che è scritto. Capite? Allora, dico, se queste cose qui le diciamo pubblicamente, capite che non c'è più bisogno di fare queste conferenze, io torno ad andare in bicicletta, come facevo prima. E quindi c'è questo problema qui, dove è venuto fuori che la Bibbia non va letta allegoricamente, ma tra l'altro queste cose qui non sono solo scritte qui. Se voi prendete i libri di Sergio Quinzio, il teologo, che cita addirittura Gershom Scholem, cioè uno dei più importanti, come dire, teologi, pensatori, cabbalisti, ebrei, eccetera, dice che chi legge la Genesi, anzi la Torah, faccio i primi cinque libri dell'Antico Testamento, pensando di trovarvi dentro dei concetti spirituali, è vittima di una colossale illusione. Ma è vero. Non c'è niente di spirituale. Lì, lì. Poi i mondi spirituali esistono benissimo, i mondi spirituali esistono. Non ho niente da dire. La Bibbia non ne parla. La Bibbia non se ne occupa. Punto. Dopodiché ognuno cerchi i mondi spirituali, colloqui con gli angeli, ma io non ho niente da dire, ma ci mancherebbe. Figuriamoci. Non ditemi solo che gli angeli sono quelli della Bibbia, perché lì qualcosa da dire ce l'ho. Tutto lì. Tutto lì. Allora, a dire che la Bibbia non va letta in quel modo lì, sono un sacco di teologi che lo dicono. E che poi, quando si parla alla gente, invece bisogna dire che? Bisogna dire che c'è l'eternità, che c'è Dio onnipotente, che c'è la creazione, perché questo è, perché altrimenti, signori, cade tutto. Cade tutto. Ma cade tutto, non nel senso che cade la Bibbia. Cade tutto ciò che ci hanno costruito sopra. E la Bibbia finalmente torna fuori con la sua dignità. Con la sua dignità, non di libro di favole, ma di un libro che racconta delle cose concrete. Qualcuno mi dice, ma tu vuoi distruggere la Bibbia? No, io sto difendendo la Bibbia. Non la voglio distruggere. La sto difendendo. Vi dico, guardate che lì c'è scritto questo. Dopodiché fatene quel che volete, però sappiate che c'è scritto questo. Allora, poi si parlava e diceva, allora, va bene, quindi passiamo alle traduzioni. Ci sono delle cose che, allora, non sono condivise da tutti, certamente, e si è parlato, appunto, per esempio, si è parlato di onnipotente e l'arcivescovo ortodosso, per esempio, dice, ma in effetti io credo che qui siamo tutti d'accordo, come diceva Mauro, io ho parlato prima, dove tante volte si devono rivedere i testi biblici. Rivedere un testo dove tante volte si perde il senso della parola, come onnipotente, che non c'entra nulla con il testo originale. Ma se non c'entra nulla, togliamolo. È così semplice, non ci vuole niente. Lo togliamo. Quando si è parlato di eternità, abbiamo letto prima, il biblista, certo, ogni tanto mi avviso c'è un po' troppo di precomprensione cristiana nella scelta dei termini di certi passi, c'è un po' troppo di precomprensione cristiana. Però si capisce che l'autore è un pio cristiano. E quindi sfondiamo una porta aperta quando diciamo che dobbiamo correggere molti errori o imprecisioni nelle nostre traduzioni. Sfondiamo una porta aperta. Ma se la porta è aperta, questi errori qui li vogliamo togliere visto che sappiamo che sono errori. E se sappiamo che sono errori e continuiamo a scriverli, non sono più errori, che sono falsità deliberate. Perché lui quando dice non tradurre con eternità, lui a un certo punto, il biblista valdesi, aveva detto io mi stupisco che Biglino si stupisca di questo. Perché? Perché il che mi riguarda, di nuovo, si sfonda una porta aperta. Tutti i dizionari, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici. Ma se tutti i grandi dizionari, compresi quelli teologici, dicono quella roba lì, la vogliamo togliere eternità dalla Bibbia oppure no? La togliamo per l'eternità, l'eternità dalla Bibbia? Perché non c'è. Se non c'è, la togliamo. Il problema non è che si tratta di togliere un concetto, no, si tratta di eliminare una cosa che è stata artificiosamente aggiunta. E nel momento in cui sappiamo che è artificiosamente aggiunta, prendiamo atto del fatto che è falsa se si continua a pubblicarla, no? Cioè se io avessi veramente un errore così palese nelle mie traduzioni e me l'avessero fatto notare, intanto mi avrebbero massacrato immediatamente. Ma io dalla ristampa del giorno dopo l'avrei tolto, no? Ma è ovvio, no? Se uno si accorge che è un errore lo toglie. Invece no. Lo dicono tutti, lo dicono tutti, ma adesso in questo momento nel mondo da qualche parte si stanno stampando migliaia di Bibbie con suo scritto eternità. Eh, se non c'è, la togliamo. Ma si è andati molto oltre. Il teologo cattolico, sentite cosa dice. Nel mondo semitico non esistono i concetti filosofici mesafisici. Non esiste il concetto né dell'eternità, né dell'immortalità. Questo concetto di creazione dal nulla è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica. Non c'è. E se non c'è, basta. Non c'è. Tant'è che se voi leggete l'opera di tanti altri teologi, dicono e di traduttori esigeti ebrei, tutti i docenti universitari nell'università giutaiche sia in America che in Israele, per esempio loro scrivono in libri come questo, che sono libri della Jewish Publication Society, dove scrivono tutti questi rabbini, tutti i docenti universitari. Qui c'è scritto che il racconto della creazione non è altro che il racconto di una serie di suddivisioni in una certa situazione per mettere ordine. Rabbini, eh? Docenti universitari. La creazione non c'è. Non c'è. Non ci sono i concetti metafisici. Il cristianesimo, sapete perché esiste? Esiste perché è esistita la filosofia greca che è stata presa, cioè in particolare platonismo e neoplatonismo, e spinta dentro a calci nella Bibbia. Per far dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non dice. Se non esistesse la filosofia greca, il cristianesimo non esisterebbe. L'ebraismo sì, perché l'ebraismo non ha nulla a che vedere con la filosofia greca. La filosofia greca è stata lo strumento grazie al quale è stato creato il pensiero religioso cristiano, spingendolo dentro la Bibbia. Se togliamo quello, la Bibbia torna a essere quello che è un libro nel quale una famiglia ha raccontato la storia del suo rapporto con un individuo. Punto. Tant'è che un sacco di cose che io dico, gli ebrei le sanno benissimo. Come poi parliamo del discorso della clonazione, eccetera. E uno dice ma perché? Perché non ce le spiegano? Ma perché non hanno nessun motivo per spiegarcele? Perché il cristianesimo ha preso quel libro che era appunto il racconto del rapporto tra una famiglia, non il popolo degli ebrei, la famiglia degli israeliti, perché gli altri ebrei andavano, discendenti della stessa famiglia di Abramo, andavano sterminati. Attenzione, quindi non gli ebrei, gli israeliti, cioè i discendenti di Giacobbe che prende il nome di Israele. Il rapporto tra questi qui e il loro. Finito. Stop. È stato preso, è stato trasformato in ciò che non era. Questo Yahweh è stato trasformato nel Dio onnisciente, trascendente, onnipotente, eccetera, eccetera. E quindi gli ebrei dicono voi vi siete inventati, ci avete preso il libro, vi siete inventato ciò che avete voluto e adesso credete nelle cose che vi siete inventati. Chi se ne frega? Cioè noi non dobbiamo spiegarvi nulla. Noi sappiamo, dicono, quello che è la Bibbia. È il nostro libro. Voi ce l'avete preso, ci avete costruito quel che volevate e adesso credete in quel che avete costruito, finito. Quando a gennaio Francesco è andato a, come fanno periodicamente, alla sinagoga di Roma e ha incontrato il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, Rav Riccardo Di Segni, sorrisi, abbracci e baci, non sono d'accordo su nulla. Rav Riccardo Di Segni ha detto, chissà dove l'ho scritta, ha detto una cosa stupenda, ha detto noi non accogliamo il Papa, la potete verificare perché mi pare sia ancora anche in rete, noi non accogliamo il Papa per parlare di teologia, perché la fede non è oggetto né di trattativa né di scambio politico. Cioè come dire, di queste robe qui noi non parliamo? Perché se si mettono a parlare la gente capisce che non sono d'accordo su nulla e se la gente capisce che la Chiesa Romana e l'ebraismo che partono entrambi dalla Bibbia non sono d'accordo su nulla, la gente si pone delle domande, perché dice come è possibile che partano dallo stesso libro e poi... ma è ovvio, perché per gli uni quel libro è una certa cosa ben precisa. Per gli altri è stato fatto diventare un'altra cosa altrettanto precisa, ma precisa nella sua fantasiosità. E quindi di questo loro non parlano, nel modo più assoluto, tra di loro, soprattutto pubblicamente. Per cui anche quando la Chiesa dice l'ebreo voi siete nostri fratelli maggiori nella fede, io vi giuro, se io fossi un ebreo gli direi no. E come dire, glielo dicono pure, ma non pubblicamente. Io con la tua fede non c'entro niente. Tu mi hai rubato un libro. Io con la fede che tu hai costruito su quel libro, non c'entro nulla, perché quel libro riguarda me, non te. Non voi. Riguarda noi. La famiglia degli Israeliti, lì ci sono promesse, che riguardano noi. E se noi facciamo la nostra parte del patto, lui prima o poi dovrà fare la sua, ma che riguarda noi. Non il mondo della cristianità, che è un mondo costruito artificiosamente. Per questo non discutono di teologia, tanto meno pubblicamente, perché altrimenti poi la gente capisce. E la gente non deve capire. Che non sono d'accordo su nulla. E poi siamo andati avanti. Arrivare ad un concetto, e qui ci colleghiamo perché riguarda proprio specificamente il cristianesimo. Ora, noi sappiamo che la dottrina ci dice in sostanza. Noi siamo dei peccatori, perché i nostri capostipiti hanno commesso il cosiddetto peccato originale. Noi nasciamo macchiati dal peccato originale. Il peccato originale è quello che ha portato la morte e la sofferenza nel mondo. E quindi noi dobbiamo vivere con la speranza che attraverso i mediatori ritroviamo una conciliazione con lui, il quale attraverso l'invio di suo figlio, che è stato mandato qui per essere massacrato, ammazzato e poi risuscitato, torniamo ad avere una speranza nella vita eterna che prima avevamo. Ma l'eternità nella Bibbia non c'è. Quando si è parlato di peccato originale, la domanda ha risposto per primo il rabbino capo. Qui ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno, perché per gli ebrei il peccato originale non c'è, perché nella Bibbia non c'è. E quindi lui giustamente dice che ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Il peccato originale è un concetto che ha cominciato a introdurre l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, dove lui dice che per colpa di un uomo, Adamo, il male, la sofferenza è entrata nel mondo e in grazia di quest'altro uomo, che sarebbe Gesù Cristo, si ritorna a sperare nel. E quindi il concetto di peccato originale comincia a elaborarlo Paolo e poi dopo lo prenderà Agostino che ne fa veramente la grande favola. Il biblista valdese, sapete il peccato originale sarebbe la disobbedienza di Adamo e Eva. Allora tra Genesi 3, il racconto della disobbedienza, e Romani 5, cioè la lettera ai Romani in cui Paolo, dove l'Apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata del mondo, non c'è coincidenza. E anzi, uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea. Io sono d'accordo con lui, ma allora smettiamo, no? Si può chiedere dove la trova quell'idea, visto che non c'è. Il cattolico. Staccherei il concetto di peccato originale dal concetto clanico, cioè che se i genitori hanno peccato i figli si tirano dietro le conseguenze. Una roba di questo genere, secondo me, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Cioè dobbiamo andare avanti? Andiamo a mangiarci una pizza? Tanto non c'è l'eternità, non c'è onnipotente, non c'è immortalità, non c'è creazione dal nulla, non c'è il peccato originale. Di che cosa stiamo parlando? Di quello che dico da sei anni, di un normalissimo libro di storia, uno dei tantissimi che l'umanità ha scritto nella sua storia. Finito. Non c'è il peccato originale. Ma se non c'è il peccato originale, qui abbiamo in sala Laura Fezzia, che ha scritto un bellissimo libro che è Apparizioni Marianne e il grande imbroglio, e adesso ne sta preparando altri altrettanto duri se non di più. Nel 1800, quindi è un libro che vi consiglio, nel 1854 Pio IX ha proclamato il dogma della Immacolata Concezione, che per molti cristiani significa che la Madonna ha concepito Gesù senza quella roba sporca che è il sesso. No. Immacolata Concezione significa che lei è l'unico essere umano nell'intera storia a essere nata senza la macchia del peccato originale. Ma se il peccato originale non c'è, tutti noi siamo nati senza la macchia. E quindi quel dogma è un dogma che dogmatizza il falso. O, nella migliore delle ipotesi, dogmatizza il nulla. Perché tutti noi siamo nati immacolati, perché il peccato originale non c'è. 1858. A Lourdes, a Bernadette Zubirou, appare quella figura femminile che lei chiama Acherò, nella lingua dialetto pirenaico, che vuol dire quella là. Lei la chiamava sempre quella là. Poi è diventata la Madonna quando la Chiesa si è, come spiega benissimo Laura, quando la Chiesa si è impossessata del tutto. E quella là ha detto, quattro anni dopo il dogma, io sono l'immacolata concezione. Ma se era la Madonna, sapeva di che cosa parlava? Visto che il peccato originale non c'è. E se non era la Madonna, che cosa è stato fatto dire a quella là che forse non ha mai detto, perché serviva alla Chiesa che qualcuno avallasse quel dogma che dogmatizza il nulla. Bibbia di Gerusalemme. Sto mantenendo il patto, nessuna traduzione mia. Quindi chi non è d'accordo con me, non dico qui tra di voi, ma discutano tra di loro sapienti. E poi dicono a noi, ignoranti, qual è la conclusione. Perché discutono tra di loro se non sono d'accordo. Cioè discutono con chi ha redatto quei dizionari, discutono con la Bibbia di Gerusalemme che dice che non c'è onnipotente, discutono tra di loro. Noi stiamo ad aspettare, tanto c'è problema. Quindi se non sono d'accordo, se la piglino con loro non vi sto dando neanche una mia traduzione, vi sto dicendo tutto ciò che dicono loro e ciò che c'è scritto nella Bibbia. Peccato originale. Genesi 3. Sapete, quando Adamo e Deva disobbediscono, ah tra l'altro qui bellissimo il discorso del libero arbitrio, la prima volta che Adamo e Deva prendono una decisione autonoma gli fanno un culo così. Cioè questo è il libero arbitrio. Cioè vi lasciamo liberi di decidere, ma se non fate quello che vi diciamo noi, questo è il libero arbitrio, a casa mia no, scusate. Qualunque dittatore al mondo dice se non fai quello che ti dico io. E voi leggete la Bibbia, troverete sempre solo questo. Se voi fate quello che vi dico io, io vi aiuto. Se voi non fate quello che vi dico io, io vi stermino. Ma qui, qui è, non nell'aldilà, qui vi stermino. Questo è il libero arbitrio del Dio della Bibbia. Per fortuna non è Dio, ovviamente. Era un normale governatore, come tutti gli altri. Allora, insomma, questi due prendono questa decisione autonoma, che significa poi, tra l'altro, quella di diventare autonomi dal punto di vista della riproduzione. Eva, con ogni probabilità, come è scritto anche nella letteratura rabbinica, si è unita sessualmente con uno di loro. Caino, con ogni probabilità, è figlio di uno di loro. Invece Abele è figlio del rapporto sessuale tra Adamo e Deva. E poi adesso vi leggo una curiosità su Adamo, quando gli presentano Eva. Allora, diciamo, la disobbedienza. Bibbia di Gerusalemme. Qui non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. Cioè, quando Adamo e Deva prendono quella decisione autonoma, gli Elohim dicono, e leggetelo nella Bibbia, eh, leggetelo. Adesso l'Adam è diventato come uno di noi. C'è scritto, adesso l'Adam è diventato come uno di noi. Adesso che non abbia accesso alle, questo lo aggiungo io, no, diciamo, che non abbia accesso all'albero della vita. E quindi fuori di qui. Si tratta di una misura preventiva, perché gli Elohim hanno il terrore che gli Adam, che hanno capito certe cose, se hanno accesso all'albero della vita, dove si fanno certe altre cose, possono diventare potentissimi e molto pericolosi per loro. Si tratta di un'azione preventiva. Quindi non è che li mandano via per punirli, li mandano via per evitare che diventino troppo potenti e poi diventano incontrollabili. Ma non è mica finita. E in rapporto al dogma del peccato delle origini, ascoltate bene, eh, pagina 25, edizione del 2013, non bisogna cercare qui tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo in Romani 5, o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Non bisogna cercarle qui, perché non ci sono. Non c'è il termine che indica Dio, non c'è l'eternità, non c'è onnipotente, non c'è creazione, non c'è immortalità, non c'è il peccato originale. Ma c'è bisogno di dire altro? E non sto parlando di traduzioni particolari, vi sto dicendo ciò che scrivono loro. È da un po' di tempo che io dico che faccio un vero lavoro da idiota, cioè il lavoro più stupido di questo mondo, vi sto leggendo quello che c'è scritto. Vi sto leggendo, che è veramente un lavoro da idiota, credetemi, vi sto leggendo ciò che c'è scritto. Allora non ci sono tutte queste cose qui, e allora a questo punto la domanda successiva è stata, ma se non c'è stata creazione? Chiede la giornalista. Ma quindi secondo la lettura biblica si può davvero parlare di creazione di Adamo, il teologo cattolico. Beh, Adamo è stato, puntini, è stato fatto, è una cosa un po' diversa, la giornalista. Ma lei si trova d'accordo con Mauro Biglino? No, vuol dire che è stato con qualcos'altro, è venuto fuori, è venuto fuori, se vogliamo mantenere l'allusione, una possibile allusione che l'uomo sia fatto d'altro, sì, sì, fatto anche di altro. Capisco che non poteva andare oltre, ma l'uomo non è stato creato, è stato fatto di altro, esattamente come dice la Bibbia. Cioè noi siamo un OGM. E quando è stata fatta Eva, allora, intanto la Bibbia dice chiaramente una cosa, chi ha la Bibbia? Genesi 2, versetto 23. Intanto la Bibbia, noi diciamo, ah l'uomo è stato creato nel paradiso terrestre, allora l'uomo non è stato creato. La Bibbia non dice neanche nel paradiso terrestre, ma dice che gli Elohim presero l'Adam e lo posero in Gan Eden. Quindi l'Adam è stato fatto da un'altra parte, poi l'hanno preso e l'hanno portato lì. E hanno portato solo i maschi, l'Apostrofo Adam, che nella Bibbia alle volte Adam è indicato con l'articolo, cioè proprio l'Adam, perché non è il nome di uno, indica una specie. E hanno portato lì i maschi perché, dice la Bibbia, perché custodisse e lavorasse quel luogo. Poi dice la Bibbia che dopo un po' di tempo Dio si accorse, perché prima non lo sapeva, che la compagnia degli animali per l'Adam non era sufficiente. Se ne accorge dopo un po' Dio, eh? Non era in grado di prevederlo. E allora decide di fargli la femmina. E per fargli la femmina, come scrivono i genetisti con i quali sto collaborando e lo stanno scrivendo nei libri, hanno attuato un protocollo di clonazione che è uguale a quelli che abbiamo noi oggi. Salvo un passaggio intermedio che nella Bibbia non c'è, poi se volete ne parliamo. Quindi, inducono nell'Adam un sonno profondissimo, gli prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva che viene tradotto con costola, chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fabbricano la femmina e la presentano ad Adamo. La Bibbia, che ha sintetizzato racconti molto più antichi, dove questo processo qui è descritto nei particolari, ci dice che appunto loro decidono di fare la femmina e gliela fanno. Io vado a mangiare a casa di Laura Fezia, la scrittrice di cui vi dicevo prima, e le dico Laura, questa volta la pasta è cotta al punto giusto. Che vuol dire? Che tutte le altre volte me l'hai data scotta. Non è vero, eh? era per fare una... ti dico, oh Laura, questa volta la pasta è cotta al punto giusto. Gli Elohim presentano la femmina all'Adam e l'Adam, traduzione di famiglia cristiana, allora l'Adam disse, questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne, questa volta. In ebraico c'è addirittura l'articolo, questa è la volta. E gli ebrei che lo traducono in inglese traducono finalmente, finalmente questa qui è quella giusta. Cioè quelle che mi avete dato prima? Ma nella letteratura rabbinica c'è scritto che lui ha rifiutato altre femmine. E qui c'è un gioco di parole che è stupendo, guardate è scritto nella Bibbia che avete in casa, eh? Non nelle mie traduzioni. Basta leggerla con un po' di attenzione ed è un libro di un fascino incredibile, incredibile. Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Le altre l'avete fatte... non andavano bene. Io mi immagino Dio che dice, madonna che culo, finalmente stavolta gli è piaciuto. E quindi sarà chiamata... purtroppo in italiano questo non rende, tant'è che qui giustamente mettono le parole in ebraico. Perché in ebraico... e quindi giustamente qui hanno lasciato le due parole in ebraico. Quindi sarà chiamata donna perché da uomo è stata tratta, che nelle traduzioni non rende nulla. In ebraico invece è chiarissimo. Sarà chiamata isha perché da ish è stata tratta. Ish indica individuo maschio. Isha è l'aggiunta della desinenza femminile al maschile ish. ish. Quindi deriva da un ish, quindi è una isha. Diciamo, deriva da un uomo, quindi è una uoma. Dice, questa volta finalmente l'avete fatta da me. Questa qui è giusta. Qui, eh? Sto continuando a mantenere il patto. Però appunto, basta leggerla. Ripeto, abbiamo tutti l'intelligenza per capirla. Tutti, tutti. Tutti allo stesso modo. C'è nessun problema. Basta leggerla con un po' di interesse, un po' di attenzione, se possibile liberandoci da quei filtri che ci hanno messo davanti, per cui uno legge, ah, questa volta è osso delle mie ossa, carne è di me. No, momento. Questa volta vuol dire le altre no. Su questo non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi. Le altre no. Allora, Adamo è stato fatto. Non c'è nepotente, non c'è eternità, non c'è il peccato originale. Cioè, nei prossimi anni, parzialmente lo sta già facendo, la Chiesa abbandonerà l'Antico Testamento perché non è più sostenibile. Nel 2008 già la congregazione De Cultu, del Vaticano, ha mandato una circolare che è trovata in rete, quindi non è segreta, ai vescovi e sacerdoti dicendo di non usare più nella liturgia il nome Yahweh perché non è cristiano. 2008. in effetti. E man mano che si andrà avanti, cioè loro lo sanno già da... è che adesso la comunicazione si sta diffondendo, per cui non possono più tenerla sotto controllo come facevano ancora fino agli anni 50 o 60. E quindi l'Antico Testamento pian piano verrà abbandonato. Perché non lo possono più sostenere, ovviamente, perché è evidentissimo. e quindi il tutto poi si punterà sul Nuovo Testamento. Il problema è che siccome il Nuovo Testamento esiste, o meglio, diciamo, quel personaggio lì, la figura cristica, esiste in quanto figlio del Dio Padre, che è il Dio dell'Antico Testamento. Ed esiste in quanto è stato mandato per riparare al danno mortale provocato dal peccato originale. Ma se nell'Antico Testamento non c'è il Dio Padre, non c'è il peccato originale, Gesù Cristo? Cioè, è inutile negarselo. Se non c'è quello, non c'è questo. Non è che dice abbandoniamo quello e puntiamo su questo. Puntiamo su questo se la gente continua a non riflettere. Ma se si riflette non si può puntare neanche su questo. Il che non vuol dire che quello lì, cioè Joshua ben Youssef, non sia... che tra l'altro noi chiamiamo Gesù ma dovremmo chiamare Giosuè, come io chiamo nei libri. Perché lui si chiama Giosuè. Come tutti gli altri Giosuè della Bibbia. Però se si chiama Gesù almeno lo si rende unico. No, lui si chiamava Giosuè. Finito. Gesù poi alla latinizzazione. Però se tutti gli altri li chiamiamo Giosuè, lui guarda caso Gesù. No, lui è Giosuè, come tutti gli altri. Quindi questo Giosuè è esistito. Diciamo, sono tra quelli che pensano che possa essere esistito. Ma non c'è nessuna prova storica, sia ben chiaro. Per questo dico, sono tra quelli che pensano che possa essere esistito. Perché anche i cosiddetti autori romani che parlano di quel gruppo lì non parlano di lui, parlano dei cristiani, cioè di una setta che farebbe capo a uno che chiamavano Cresto. Ma quando Tacito parla di questa setta, poi la chiama superstizione. Il che vuol dire che lui per primo pensava che non esistesse, perché altrimenti non l'avrebbe definita superstizione. Per cui non c'è nessuna prova storica. Ma io sono tra quelli che tendono a pensare che quel rabbì giudaico, giudeo, messianista, antiromano sia esistito. Poi su quello è stata costruita, grazie al pensiero greco, platonico e neoplatonico in particolare, la cosiddetta figura cristica. E per costruire la figura cristica l'hanno collegata ad un Dio padre nell'Antico Testamento che non c'è e gli hanno dato come giustificazione nel peccato originale che non c'è. Quindi la figura cristica non ha motivo di esistere. Io nei libri Mondadori, dicevo prima che ho avviato un'analisi parallela, lì c'è la prima parte, in questo libro qui la Bibbia non parla di Dio, c'è la prima parte, nell'altro libro che è uscito una settimana fa e che stasera qui è già finito, già finito tutte le copie che Mondadori ha mandato. Continuo con la tecnologia e faccio un'analisi parallela tra l'Antico Testamento e i testi greci. In particolare lì c'è Omero per far vedere come in realtà raccontino esattamente la stessa storia. Cioè ci parlano esattamente degli stessi individui che la Bibbia chiama Elohim e che i testi greci chiamano Theoi e che gli indiani chiamano Deva e che in Stati Uniti, scusate nell'America, erano i Viracocias che sono i Tuatha de Danann o gli Asi del Nord, ma sono sempre loro. Sempre hanno le stesse caratteristiche, stesse caratteristiche fisiche, stesse attitudini, stesse esigenze neurofisiologiche, si muovono nello stesso modo, utilizzano le stesse tecnologie, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi lì, in questo libro che invece è ancora rimasto, tra l'altro questo qui è passato, io me ne sono accorto dopo, è passato nella collana Oscar Best Seller dopo che ha avuto un sacco di ristampe perché non lo sapevo neanche io. E quindi lì ho cominciato e poi ho proseguito nell'altro, ripeto che è uscito otto giorni fa, proprio per far vedere come i popoli antichi ci abbiano raccontati tutti in realtà la stessa storia. E se si applicasse all'Ilia dell'Odissea, la stessa metodologia, cioè le stesse categorie esegetiche filologiche che si applicano alla Bibbia, noi inventeremmo il monoteismo omerico. Per fortuna mai è venuto in mente ad un teologo di fare una roba del genere, perché altrimenti saremmo qui a discutere della teologia omerica. Per fortuna non è mai venuto in mente a nessuno, per cui ci limitiamo a parlare della teologia biblica, ma i racconti sono gli stessi. E la cosa interessante è che se noi prendiamo una cosa di cui nessuno più ci parla, perché ovviamente nel momento in cui, dopo il concilio di Nicea, quando dei più o meno 40-50 cristianesimi diversi che venivano predicati in origine, Costantino ha riunito i vari rappresentanti a Nicea e gli ha detto, adesso voi uscite di qui con uno. Tutte le altre le buttiamo via e le facciamo scomparire. Quindi definite voi una verità, non importa quale, sceglietela voi, tutte le altre le dichiareremo eretiche e le faremo scomparire. Per votazione hanno scelto quella che noi crediamo, cioè quella che ci viene insegnata. Se per votazione ne avessero scelta un'altra, noi ne crederemmo un'altra. Hanno scelto questa, va bene. Dopodiché, tutto ciò che vivevano e dicevano i primi cristiani, ovviamente, si è cercato di farlo scomparire. Poi per fortuna delle opere ci sono arrivate, come per esempio quelle di Celso, siamo al secondo secolo dopo Cristo, che è vero, Celso è stato poi considerato uno degli eretici, ma quelle per esempio anche di Giustino Martire, che è invece un santo ed è uno dei padri della Chiesa. Allora sentite cosa dice Celso nella sua opera che è il discorso vero, al capitolo quinto, siamo nel secondo secolo dopo Cristo e quindi sta parlando delle varie credenze dei cristiani. Dice, ebbene, tralasciamo tutti i punti in cui si potrebbe confutare quello che chiamano il loro maestro e consideriamolo pure un autentico messaggero. Ora è stato lui il primo e l'unico a venire qua giù e ne sono venuti in precedenza anche altri. Se intendono, qui parla dei cristiani, se intendono affermare che è l'unico, lì si può cogliere in flagrante menzogna e in contraddizione. Essi affermano infatti che ne sono venuti spesso anche altri, persino in numero di 60 o 70 alla volta. Avete capito? E dicono anche che sulla sua stessa tomba ne venne uno o secondo un'altra versione due e risposero alle donne che era risorto. Il figlio di Dio a quanto pare non riuscì ad aprire da solo la tomba ma ebbe bisogno di un altro che smuovesse la pietra e questo è evidentissimo, si capisce dai Vangeli. Un altro messaggero si presentò al carpentiere per la gravidanza di Maria, poi vi racconto alcune curiosità, e un altro ancora per farli fuggire in Egitto. Egli è ben lungi dall'essere il solo di cui si narri che è venuto a visitare il genere umano. Secondo secolo dopo Cristo, i cristiani dicevano che di questi ne erano arrivati anche in gruppi di 60-70 alla volta. Tutta questa roba qui deve scomparire perché è stata scelta la verità, per la quale quello lì è l'unico figlio di Dio e quello noi dobbiamo credere. Ma i primi cristiani non credevano questo. Giustino Marti è padre della chiesa, santo. Nella sua apologia dei cristiani, diciamo coevo di Celso, lui scriveva all'imperatore Antonino Pio. E scriveva all'imperatore Antonino Pio per dire ma perché perseguitate noi cristiani? Perché? E sentite che cosa dice. Il nostro, quello in cui noi crediamo, è come i vostri. Voi sapete infatti di quanti figli di Zeus parlino gli scrittori vostri, che sono come il nostro, Ermete, che è il logos interpretativo, Asclepio, che curava, Eracle. Se poi qualcuno ci rimproverasse il fatto che egli fu crocifisso, anche questo è comune ai figli di Zeus annoverati prima. Se poi diciamo che è stato generato da una vergine, anche questo sia per voi un elemento comune con Perseo. Quando affermiamo che egli ha risanato zoppi e paralitici, tutto questo è uguale al vostro Asclepio. Cioè il padre della chiesa, santo, dice ma perché ve la prendete con noi che seguiamo uno che è esattamente uguale a quelli che seguite voi? Non c'è nessuna differenza. E questo è evidentissimo. E lo dice un padre della chiesa. Dice ma perché ve la prendete con noi? Il nostro è come i vostri. Uguale. Non c'è nessuna differenza. Capite? Poi arriva il concilio di Nicea, poi quello di Costantinopoli e quindi noi abbiamo il credo niceno costantinopolitano. Io credo in Dio onnipotente, creatore, dice. Tutta una roba che hanno inventato lì, ma che prima non c'era. Gruppi di 60 o 70. Noi abbiamo la bella storia di Maria che viene visitata da Gabriele. Ora Gabriele è un termine ebraico che non è un nome. È un termine funzionale. Significa gever di un El. Cioè uno che esercita il potere per conto di un El. El è l'identificazione, la singolare del termine Elohim, in sostanza. E indica i potenti, cioè quelli che hanno il comando. Quindi il gever di un El, che in ebraico si chiama stato costrutto, gever di un El diventa Gabriele. Cambiamento di lunghezza delle vocali, eccetera. Diventa Gabriele. Quindi un Gabriele incontra Maria e lei rimane incinta senza conoscere uomo. Di queste robe qui nell'Antico Testamento ne sono avvenute molte. Cioè molti El visitavano le donne della famiglia abramitica e dopo che loro le visitavano quelle rimanevano incinte. Questa roba qui si ripete costantemente nell'Antico Testamento. Però attenzione. Nei testi coevi di, cioè quindi paralleli ai Vangeli, si racconta per esempio del fatto che Giuseppe temeva che Maria fosse stata ingannata da uno che si era fatto passare per un altro. Ora questa roba qui nei Vangeli canonici ovviamente è scomparsa. Perché Giuseppe deve essere uno che ha accettato la volontà di Dio. E non era così. Lui pensava e diceva ma se è così quindi lei dovrebbe essere lapidata. Insomma si poneva tutta una serie di problemi perché temeva che uno si fosse fatto passare per un altro. C'è e quindi c'è come dire la storia è diversa da quella semplice che ci viene raccontata. Perché un Geverdi, un El che è un Gavriel per esempio si presenta a Daniele. Daniele sapete il profeta e qui c'è una cosa curiosa. Quando Daniele lo vede arrivare dice vidi arrivare un ish. Abbiamo detto prima, vidi arrivare un individuo maschio. E nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto che arrivò volando con leggerezza. in ebraico e nei dizionari di ebraico e nei dizionari di etimologia, questo è un dizionario italiano, un dizionario inglese e un dizionario di etimologia inglese dove è citato quel versetto viene tradotto esattamente, quindi non sono io che lo trattavo così, viene tradotto esattamente ciò che c'è scritto in ebraico. Arrivò essendo pesantemente affaticato. Nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto arrivò volando con leggerezza. Perché? Perché siccome Gabriele viene considerato un angelo e gli angeli possono solo arrivare volando con leggerezza, ma Gabriele non è un angelo e arriva stanco. Così è scritto. È qui, eh? È qui. È qui. Non vi sto dando la mia traduzione, sto mantenendo il patto. È qui. Vi cito tutti i dizionari che volete. Li confrontate. Ci sono le fotocopie delle pagine. Quindi un ish visita, un individuo maschio, visita Maria e lei rimane incinta senza conoscere Adam. Cioè senza conoscere uno appartenente alla specie degli Adam. Quindi è probabile che lo Spirito Santo sia entrato dal solito posto. Il gesuita Jean Danielou, accademico di Francia, teologo, professore all'Istituto Cattolico di Parigi, ha condotto uno studio sulla figura di Gabriele e sulla figura dello Spirito Santo. Sapete che nei Vangeli c'è scritto che lo Spirito Santo copre la Madonna, coprirà la Madonna con la sua ombra e lei rimarrà incinta. Bene. Lui conduce tutto uno studio, sto semplifico, per dire che lo Spirito Santo non è altro che la trasposizione cristiana del tema giudaico di Gabriele. Gesuita, accademico di Francia, docente all'Istituto Cattolico di Parigi. Gabriele, lo Spirito Santo è la trasposizione in chiave cristiana della figura di Gabriele. Quindi, Gesuita, eccetera, 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 a coprire la Madonna è stato Gabriele, che i cristiani chiamano Spirito Santo. Quando Gabriele va a visitare la Madonna, in greco le dice caire che caritomene, ave piena di grazia, gioisci piena di grazia, che caritomene in effetti è, aggettivo, la forma medio-passiva del perfetto del verbo caritou, che vuol dire rendersi graziosi, ma graziosi fisicamente, belli. Quindi il suo saluto potrebbe essere stata gioisci tu che ti sei fatta bella, perché perché questo è il significato letterale del verbo caritou. Qualche volta dico ciao bella gnocca. Cioè nel senso che nel libro 6 della Genesi c'è scritto che i figli maschi degli Elohim videro che le femmine degli Adam erano belle e ne presero per compagne quante ne vollero. Quindi il fatto che scegliessero delle femmine belle parte dall'inizio della Bibbia. Quindi questo sarebbe coerente con tutto il resto del discorso. dico sarebbe perché io non so se le cose stanno così, ovviamente, non lo so, non ho le prove. Faccio sempre finta che sia vero ciò che c'è scritto e vedo se ciò che c'è scritto ha una sua coerenza, che non vuol dire che sia la verità, perché io la verità non ce l'ho, ma è coerente. Questi le sceglievano belle per fare le cose che dovevano fare, Gabriele sembra dirle gioisci tu che ti sei fatta bella. E se Gabriele è, lo dice il Gesuita, se lo Spirito Santo è la trasposizione cristiana di Gabriele, cioè unisce un individuo maschio, nei Vangeli c'è scritto che un individuo maschio, facente le funzioni di un Gabriele, ha coperto Maria e lei è rimasta incinta. E, ripeto, non so se è vero, ma è coerente. Dopodiché fatene quel che volete. Nei testi c'è anche scritto che Giuseppe aveva il forte timore che Maria fosse stata ingannata da uno che si era fatto passare per un altro. Insomma, è molto probabile che tutta questa storia vada riscritta. Adesso però chiedo ai capi, perché mi hanno detto, ah, ecco appunto, a un certo punto di darvi la possibilità di bere qualcosa. E poi riprendiamo. In uno dei forum dove ci sono molti che non mi vogliono tanto bene, e li capisco, questo qui è un forum ebraico, un forum importante, si chiama Consolenza ebraica, c'è scritto, certo, Biglino difende la tesi che la Bibbia non parli di Dio. Quindi qui a scrivere sono esegeti ebrei. Tuttavia, pur nella plausibilità che alcuni testi biblici all'origine non avessero Dio in senso stretto come protagonista, questi scritti sono stati in seguito usati e per questo conservati, altrimenti sarebbero andati persi, e quindi per questo conservati proprio da quelli che volevano parlare di Dio. Questi testi sono stati poi più volte rimaneggiati, rifusi, rivisti e corretti da quelli che erano interessati a parlare di Dio, e poi in seguito ancora variamente interpretati da quelli che volevano parlare di Dio. In altri termini, la Bibbia è il testimone e il frutto di una lunga ricerca di Dio non ancora terminata. Questa ricerca non è mai stata univoca, uniforme, pacifica e priva di errori. La storia ci testimonia una ricerca assolutamente varia, spesso equivoca, multiforme, violenta e piena di passi falsi. Io sottoscrivo tutto. Cioè, la Bibbia è un libro che è stato usato da chi vuole parlare di Dio. Non è il libro che Dio ha ispirato per parlare a noi di Lui. È proprio il ribaltamento. E io sono d'accordo, la Bibbia è stata usata dai teologi che vogliono parlare di Dio e hanno scelto quel libro. E questo è significativo, molto significativo. Vi dicevo prima delle traduzioni, abbiamo visto prima, per esempio, non so, Daniele, no? Che vede arrivare Unish, cioè vede arrivare Gabriele, che arriva volando leggermente, quando invece poi nei dizionari c'è scritto che questo arriva essendo pesantemente affaticato. C'è un altro racconto nel Libro dei Giudici, siamo nel capitolo 6 del Libro dei Giudici, quando uno dei cosiddetti angeli, che in ebraico sono chiamati Malachim, incontra Gedeone, insomma, fanno una serie di cose, e dopodiché, tra l'altro, lì a Gedeone viene detto, stai tranquillo, non morirai, perché incontrare uno di quelli non era mai piacevole. Cioè, c'era sempre il rischio di essere ammazzati, gli angeli, eh? E quindi lui era un po' preoccupato, gli dice, stai tranquillo, insomma, per questa volta anche hai visto uno di loro, non morirai. Ma fanno una serie di cose, tra cui appunto parlano, eccetera, poi l'angelo gli dice, preparami del cibo, quindi lui va, torna a casa, l'angelo sta lì ad aspettarlo, prepara della carne, l'essa, dentro del brodo, torna con la carne, con il brodo, e lui gliela fa mettere su una pietra, e poi con un oggetto cilindrico gliela incendia, e quindi incendia la carne, che brucia sia la carne che il brodo. Dopodiché, in tutte le Bibbie che, e quindi se l'amico che ha la Bibbia vuole andare a vedere, nel capitolo 6 dei Giudici, al versetto 21, Giudici 6, capitolo 21, cosa c'è scritto? Possiamo leggerlo? C'è il microfono, arriva, arriva. L'angelo di Dio, stese quindi l'estremità del bastone, e toccò la carne e i panni non fermentati, che un fuoco ascendeva dalla roccia e consumava la carne e i panni non fermentati, in quanto all'angelo di Dio svanì alla sua vista. Ok. Svanì alla sua vista. Se voi avete delle Bibbie in casa, andrete a vedere, potrete trovare svanì, disparve, scomparve, eccetera, eccetera, eccetera. In ebraico c'è scritto, se ne andò camminando. Perché? Perché i malachim biblici non sono gli angeli spirituali con la luce, sono individui in carne ed ossa, e quindi camminano. Per la teologia, siccome gli angeli devono essere entità spirituali, quando se ne vanno scompaiono la vista. No. No. Se ne vanno camminando. Finito. Semplicissimo. Tutto coerente. Non c'è bisogno di inventare niente. È tutto coerente. Degli angeli, dei cosiddetti angeli, dei cosiddetti teoi. Vi dicevo prima, no? Che tutti ci raccontano la stessa storia, quindi anche lì, nel libro Mondadori, quello lì, che è lì, parlo dei teoi omerici. Di questi qui, cioè dei teoi, che sarebbe il termine greco per indicare gli Elohim biblici, ci parla anche l'Apostolo Paolo. E quindi se ne parla l'Apostolo Paolo, bisogna che i cristiani gli credano, perché Paolo è il fondatore del cristianesimo. E nella prima lettera ai Corinzi, dal capitolo 8, Paolo dice, Anche se infatti vi sono delle pretese, o cosiddette divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto vi sono molti dei e molti signori, ma per noi ce n'è uno solo. Come di fatto ci sono, ma per noi conta uno. Questo, secondo i termini usati dai sapienti, non si chiama monoteismo, si chiama monolatria. Monolatria vuol dire essere consapevoli dell'esistenza di molte, chiamiamole così, divinità, ma sceglierne una e adorare quella. Punto. Paolo era un monolatra, non un monoteista. Lo dice qui. Come di fatto vi sono. Vi sono. E se lo dice Paolo, i cristiani ci devono credere. Per forza, è il fondatore del cristianesimo. Ma dice qualcosa di più Paolo in un'altra lettera, che adesso vi... vi dico. Parlando di questi qui, cioè dei cosiddetti angeli, no, che pagina è? Nella lettera agli ebrei, al capitolo 13, dice non dimenticate l'ospitalità. Perché prima, mentre prendevamo il caffè, qualcuno mi diceva ma questi qui sono qui in mezzo a noi, no, si riconoscono, non si riconoscono, eccetera. Non dimenticate l'ospitalità, per mezzo di questa, infatti, alcuni, senza saperli, hanno ospitato, senza saperlo, hanno ospitato degli angeli. Cioè, sono talmente simili a noi, che non li avete riconosciuti. Quindi, se qualche estraneo vi chiede ospitalità, dategliela, perché magari è uno di loro. Lettera agli ebrei, traduzione di famiglia cristiana. Cioè, ce lo dicono dappertutto. Poi, è chiaro che la religione monoteista deve, come dire, arrampicarsi sugli specchi, ma questo c'è scritto. Questo c'è scritto. Ed è quello che vi dicevo all'inizio, no, che faccio il lavoro più stupido di questo mondo. Vi leggo quello che c'è scritto. Dopodiché, ci vengono spiegate un sacco di cose che vanno tutte bene, per carità, poi ognuno con la fede sceglie quello che vuole, eccetera, eccetera, eccetera. Però, nel momento in cui uno fa la scelta, e fa anche una scelta di fede, almeno sappia quello che c'è scritto. C'è scritto che Paolo dice che gli dèi sono molti, che si possono ospitare degli angeli senza accorgersi di ospitare degli angeli, c'è scritto che onnipotente non è onnipotente, c'è scritto che non si parla di creazione, non si parla di peccato, quello c'è scritto. E poi c'è ciò che ci viene raccontato. Ma quando ascoltiamo ciò che ci viene raccontato, se leggiamo la Bibbia, almeno noi sappiamo che cosa c'è scritto, perché altrimenti ascoltiamo soltanto le spiegazioni. Ed è per questo che io dico che è fondamentale, spesso vengono sulle mie pagine Facebook anche a scrivere, le trovate scritte lì, non leggete i libri di Biglino. Io invece vi dico leggete i libri dei teologi, leggeteli, però così come è giusto fare con i miei, leggeteli con la Bibbia a fianco, come con i miei, uguale, uguale. Voi prendete un mio libro e vi mettete la Bibbia lì, in modo che quando io cito un versetto voi andate a vedere lì sulla Bibbia. Ma fate lo stesso con i libri dei teologi. E dopo di che scegliete voi? Però l'importante è che quando si legge una spiegazione, ed è non è un caso, che io nei miei libri metto i versetti ebraici con la traduzione. Poi, ripeto, però andate a verificarli, non fidatevi, però fatelo anche con i libri di teologia, perché altrimenti uno corre il rischio di leggere la spiegazione senza sapere cosa c'è scritto veramente nel testo su cui quella spiegazione è stata elaborata. E questo è sbagliatissimo, no? Ma non vale solo per la Bibbia. Cioè, se io leggo delle interpretazioni di Pinocchio, per prima cosa devo leggere Pinocchio e poi leggerò le spiegazioni. Sapete, su Pinocchio ci sono interpretazioni psicanalitiche, psicologiche, religiose, pedagogiche, eccetera. Però se non conosco Pinocchio è inutile che lega i libri scritti su Pinocchio. O comunque, quando leggo i libri su Pinocchio mi tengo Pinocchio vicino, in modo che quando citano un certo passo me lo vado a leggere. Facciamo così anche con la Bibbia. Perché poi nella Bibbia ci sono scritte queste cose qui. Capite? Altrimenti, ripeto, ascoltiamo soltanto le spiegazioni e le spiegazioni sono molto spesso, ovviamente, molto ben costruite, sono talmente ben costruite che sono scritte molto spesso come se la Bibbia non esistesse. perché ve l'ho detto prima, leggete la Bibbia e quando trovate dei passi dove sia affermato e documentato l'amore di Dio per l'umanità, attenzione, non per Israele, per l'umanità, per cortesia, segnalatemi lì. Quando si parla dell'umanità, cioè Dio che ama tutta l'umanità, segnalatemi lì. perché io ho qualche difficoltà a trovarli. Il problema qual è? Che? Uno dei problemi è questo. Se volete provare a leggere la Bibbia in un modo che vi aiuti a capirla di più, leggete la Bibbia che avete in casa con questo accorgimento. Quando trovate Dio voi lo togliete e non ci mettete nessuna traduzione ma ci mettete il termine che hanno usato gli autori biblici Elohim. Non chiedetevi cosa vuol dire perché tanto nessuno al mondo sa che cosa voglia dire esattamente per cui ogni volta che si tenta di dare una traduzione è comunque un qualcosa che poi deve essere spiegato perché non si sa. però siccome la Bibbia deve parlare di Dio l'esegesi teologica ha scelto di tradurre Elohim con Dio. Ok? Quando voi trovate altissimo voi lo togliete e ci mettete il termine ebraico Elion che in ebraico significa quello che sta sopra. Quando ci trovate Signore perché è sempre così Signore o Eterno voi ci mettete Yahweh che è esattamente il termine che c'è nella Bibbia ogni volta che in italiano c'è il Signore o Eterno e anche queste sono due traduzioni che nulla hanno che vedere con l'eventuale possibile significato di questo nome che non si sa qual è. Tant'è che in quello studio in quel libro dei rabbini che vi ho fatto vedere prima addirittura ci sono alcuni che ipotizzano che Yahweh sia la trasposizione della esclamazione che pronunciavano quando lo vedevano arrivare ecco è lui capite? lo scrivono i rabbini cioè sarebbe diventato il nome quando dicevano ecco è lui quindi pensate uno che vede Dio arrivare ok? perché se voi fate questa sostituzione qui che significa sostituire delle traduzioni lo dico proprio tranquillamente fantasiose con i termini originali quindi non facciamo nessuna traduzione così rispettiamo esattamente il testo voi avrete una sensazione immediata perché quando leggete così voi trovate Dio ha fatto questo l'Altissimo ha fatto quest'altro il Signore l'Eterno e quindi la sensazione ovviamente è che è sempre lui no se voi la leggete così capirete ma lo capirete rapidissimamente che quando gli autori biblici usavano questi termini si riferivano a identità diverse lo capirete immediatamente senza bisogno di tradurre perché se si comincia a tradurre si comincia a discutere allora non traduciamo così non discutiamo voi capirete che questo qui è il capo che questi qui erano tanti e che questo qui era uno di quelli lo capirete chiarissimamente chiarissimamente perché per esempio voi leggerete Deuteronomio 32 quando l'Altissimo quando Elion distribuiva alle nazioni la loro eredità quando divideva i figli dell'uomo fissò i confini del popolo porzione di Yahweh è il suo popolo Giacobbe è la parte della sua assegnazione cioè quando Elion divideva a lui è toccato Giacobbe capite? versetto 12 Yahweh da solo lo guidò non c'era con lui alcun Elohim straniero fate questa sostituzione e capite subito quando il capo fa le divisioni a lui tocca quella famiglia e lui dice questi me li guardo io da solo e con lui non c'è alcun Elohim straniero è chiarissima la divisione è chiarissima il capo il gruppo uno del gruppo siccome la Bibbia si occupa di questo si occupa di questo ci dice a chi cioè ci dice chi è stato assegnato a questo qui Giacobbe e lui dice che fa tutto da solo questa storia qui della divisione ci è raccontata anche da Platone sapete nel Crizzo e nel Timeo dove dice appunto che il capo insomma questi si sono divisi spartiti i popoli e Platone ci dice che in alcuni casi alcuni di loro governavano in coppia per affinità loro caratteriale per come dire comunanza di obiettivi quindi alcuni di loro guidavano per esempio come Atena ed Efesto che si erano presi dei popoli e li guidavano assieme nella Bibbia ci dice che invece lui con questi qui ha fatto tutto da solo ma è uguale è uguale c'è una sola differenza è scritto qui basta che facciate queste sostituzioni quando Israele come vi ho detto prima non faceva altro che combattere contro gli altri popoli attenzione quando leggerete la Bibbia capirete che i popoli con cui combatteva Israele sono appunto i cugini primi cugini, zii e nipoti vedrete che Israele mai si è sognato di combattere contro gli egiziani gli assiri i babilonesi perché Yahweh non poteva neanche immaginarsi di combattere contro quei popoli che erano affidati a dei suoi colleghi immensamente più potenti di lui lui combatteva contro le famiglie dei suoi degli stessi appartenenti alla stessa famiglia di Abramo perché si strappavano i territori l'uno con l'altro e nella famiglia di Abramo il padre si chiamava Terach che aveva Abramo Nacor e Aran Abramo ha Isacco Giacobbe che è Israele e abbiamo appena letto che a Yahweh viene affidato questo qui attenzione non Abramo abbiamo appena letto Giacobbe è l'eredità di Yahweh è l'assegnazione di Yahweh non Abramo Giacobbe quindi neppure tutta la famiglia di Abramo ma solo questo Aran ha un figlio che si chiama Lot che compare nella storia di Sodoma e Gomorra poi se abbiamo tempo ne parliamo da lui discendono i Moabiti e gli Ammoniti sapete che Giacobbe ha un fratello che si chiama Esau da cui discendono gli Edomiti e gli Amalekiti sono quelli di cui vi dicevo all'inizio quando Saulo li deve sterminare tutti ma viene punito perché lascia in vita il loro re quindi questi qui erano discendenti diretti del fratello gemello di Giacobbe capite contro chi combattevano poi gli altri da sterminare erano i Madianiti discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina che Turà quindi questi sono i nemici di Israele tutti familiari strettissimi tutti appartenenti alla stessa famiglia di Abramo Dallas Dynasty nessuna differenza nessuna differenza leggetelo leggetelo in una di queste continue lotte il comandante delle forze di Israele che si chiama Yeftè sta combattendo contro gli Ammoniti giudici undici ventiquattro e lui parla con il re degli Ammoniti e sentite che cosa gli dice le terre di cui il tuo Elohim e qui c'è pure il nome Kamosh ti ha fatto entrare in possesso tu te le tieni così anche noi ci teniamo quanto Yahweh l'Elohim nostro ci ha fatto possedere cioè il tuo Elohim ti ha dato quelle terre tu te le tieni benissimo il nostro Elohim ci ha dato queste terre e noi ce le teniamo punto uguali nessuna differenza non è che gli dice a me le ha date Dio a te le ha date il tuo idoletto di pietra che no perché questo dice la teologia che esiste Dio e tutti gli altri erano dei poveri pagani scemi che parlavano con le pietre invece gli israeliti erano gli unici intelligenti e solo che gli israeliti dicono il tuo Elohim Kamosh ti ha dato quelle terre tu te le tieni bene io mi tengo quelle che mi ha dato il mio Elohim io è punto finito nessuna differenza nessuna differenza è scritto qui non traduzione mia cioè più chiaro di così non si può essere poi è chiaro che la teologia deve fare i salti mortali o per non parlare mai di questi versetti ve li hanno commentati qualche volta oppure per cercare di dire che in realtà quando dicono questo volevano dire altro e però signore allora lo facciamo anche con Dix Wheeler cioè quando volevano dire una cosa ne dicevano un'altra gli facciamo dire quello che vogliamo noi no cominciamo a vedere che cosa dicevano poi se qualcuno ci vuole mettere delle interpretazioni le metta ma non c'è bisogno di interpretazioni perché tutto è logico e coerente quando quando questi signori qui da Nacor discende uno che si chiama Labano quando questi signori dovevano prendere moglie tornavano nella famiglia di origine ok Abramo torna nella famiglia di origine a prendere la sua sorrellastra Sara Isacco a Isacco viene assegnata una femmina di Giacobbe quando deve prendere torna lì e quando c'era lui c'era questo qui e difatti lui sposerà due figlie di questo qui lui va lì ne vede una quella carina e lui dice vabbè se vuoi mia figlia devi lavorare per me per un certo periodo di tempo lui Giacobbe lavora dopodiché quando arriva il momento del matrimonio siccome c'era una famiglia una figlia bella e l'altra che era un cesso la prima notte Labano fica nel letto di Giacobbe il cesso lui se ne accorge al mattino e dice vabbè ormai niente se vuoi l'altra devi continuare a lavorare per me ok lui continua a lavorare finché a un certo punto le ha finalmente tutte e due va bene poi se ne va via siccome hanno passato il tempo a fregarsi l'uno con l'altro tanto per intenderci quando Giacobbe se ne va via con le mogli con un sacco di bestiame che era riuscito a procurarsi eccetera lui ritiene che questo qui lo abbia fregato per l'ennesima volta e lo insegue quando si tanto per dire l'amore che c'era dentro quelle famiglie quando si incontrano e riescono diciamo così a non combattere e arrivano a fare un patto e fanno un patto e erigono un cippo siamo in Genesi 32 e Labano dice a Giacobbe ecco questo mucchio di pietre questa stele che io eretto tramete è testimonio che io giuro di non oltrepassare questa stele dalla tua parte e tu giuri di non oltrepassare questo mucchio dalla mia parte per fare del male cioè giuriamo che nessuno dei due attraverserà questo confine con intenti ostili verso l'altro e ascoltate bene l'Elohim di Abramo e l'Elohim di Nacor saranno giudici tra noi cioè a garanzia di quel giuramento siccome uno apparteneva a questo ramo della famiglia l'altro apparteneva a questo ramo della famiglia dicono che per la garanzia da parte di questo è l'Elohim di Abramo e la garanzia per questo è l'Elohim di Nacor cioè l'Elohim di Abramo e l'Elohim di Nacor sono tutte e due garanti di quel confine ora come si può anche soltanto pensare che questi qui giurassero il nome di Dio e questi qui ritenessero che garante per loro fosse un mucchietto cioè un idoletto di pietra qui poi ovviamente che cosa fanno lo leggo anche in rete perché veramente io capisco che sono costretti a inventare di tutto allora dicono questi erano monoteisti questi invece erano dei monolatri o al più degli enoteisti perché si usano un sacco di definizioni molto alte per nascondere la realtà che invece è molto bella e molto affascinante enoteisti vuol dire che si adora un unico Dio senza arrivare necessariamente alla negazione degli altri mentre il monoteista adora un unico Dio negando tutti gli altri il monolatra accetta l'esistenza di tutti ma ne sceglie uno e quindi tutte queste grandi definizioni in questo caso facciamo un ragionamento semplice se questi qui parlavano con Dio e questi qui parlavano con delle pietre e questo qui era fratello di questo vogliamo dire che c'era un fratello intelligente e un fratello scemo ma secondo voi quanti minuti ci impiegava il fratello intelligente a dire al fratello scemo scusa non vedi che tu parli con quelle pietre vieni qui un attimo che ti presento il mio visto che Yahweh lo vedevano gli parlavano gli davano da mangiare gli preparavano il cibo quando lui arrivava stanco gli preparavano anche il modo che lui avesse possibilità di riposarsi e di lavarsi i piedi impolverati quanto ci metteva Abramo a spiegare al fratello scusa vieni con me che ti faccio vedere il mio che esiste mentre tu continui a parlare con delle pietre quanto tempo ci metteva secondo voi e invece questi sono andati avanti per decenni secondo la teologia con il fratello intelligente che aveva attinto alle vette del monoteismo e il fratello scemo che continuava a parlare con le pietre e come giuramento c'era questo qui che giurava su Dio e questo qui che giurava sui mucchietti di pietre ma si può anche solo pensare a una roba del genere è totalmente priva di senso erano due fratelli non popoli lontanissimi due fratelli solo che mentre Abramo è stato chiamato da un Elohim che gli ha detto vieni fuori dalla terra dei tuoi padri che andiamo a conquistarci un altro territorio questi qui sono rimasti in Mesopotamia quindi questi qui servivano gli Elohim che governavano in Mesopotamia Abramo serviva l'Elohim che l'aveva chiamato punto ma tutti avevano lo stesso potere tant'è che se voi avete voglia di leggere il commento che Rashid Troai che è uno dei più importanti commentatori della storia commentatori ebrei della Bibbia siamo intorno all'anno 1000 lui dice che qui c'erano chiaramente le due schiere che difendevano i due lati del confine tant'è che subito dopo che partono alla mattina per tempo Labano si levò baciò i suoi figli li benedisse poi partì e ritornò a casa sua mentre Giacobbe continuava il suo cammino gli si fecero incontro i malachim degli Elohim cioè gli angeli degli Elohim cioè i portatori di ordini degli Elohim Giacobbe ascoltate bene al vederli esclamò ma questo è l'accampamento degli Elohim attenzione questo è l'accampamento qui c'è scritto l'accampamento di Dio ovviamente ma io la leggo con questa sostituzione perché se c'è l'accampamento di Dio cosa vuol dire che Dio aveva l'accampamento che aveva una canadese ma attenzione è mica finita e chiamò quel luogo Mahanaim Mahanaim vuol dire è un duale vuol dire due accampamenti cioè Giacobbe in quel posto ha visto due accampamenti e ha visto due accampamenti e dice ma questo è l'accampamento degli Elohim chiama quel luogo due accampamenti e se ne va io ho fatto 15 mesi di Naya negli Alpini nella Nato e questa roba qui eravamo sempre in giro quindi quando c'erano gli accampamenti arrivava qualcuno i Malachim si avvicinavano e dicevano non si può è esattamente la scena descritta qui arriva gli si avvicinano gli si fanno incontro i Malachim lui dice oh madonna questo è l'accampamento degli Elohim è tutto coerente non c'è bisogno di inventare niente spero sempre di incontrarli per chiederglielo tant'è dunque andiamo a questa qui è bellissima poi provo a rispondere solo che so già cosa mi costa questa risposta poi allora ci sono appunto i due accampamenti poi sappiamo che Giacobbe ha sempre le contese con Esau sapete per il via della primogenitura questa è una storie che conosciamo tutti il piatto di lenticchie ecco erano gemelli questi gemelli nascono guarda caso dopo che un Elohim ha visitato la loro madre tanto per cambiare e Yahweh dice sempre Giacobbe è il mio primogenito ma la Bibbia ci dice che Giacobbe è nato per secondo perché il primo uscire è stato Esau ma qualunque ginecologo vi spiegherà che in un concepimento gemellare quello che esce per secondo è quello che è stato concepito per primo tant'è che si è attaccato più in alto nell'utero e quindi esce per secondo quindi il vero primo generato è Giacobbe non Esau e chi applica questo discorso della primogenitura evidentemente queste cose le sapeva quindi un Elohim è intervenuto sulla madre c'è stato un concepimento gemellare e quello che nasce per secondo viene considerato il primogenito cioè quello che è stato fecondato per primo è una cosa precisa quindi chi ha fatto questo conosceva poi viene raccontata la storia del piatto delle antiche per cui Esau cede alla primogenitura e qui c'è un altro discorso che è interessantissimo sapete che la madre poi aiuta Giacobbe a ingannare il padre Isacco siccome Esau era peloso allora quando deve dare la benedizione per la primogenitura mette un vello addosso a Giacobbe in modo che il padre cieco vecchio lo tocca lo sente molto peloso ed è convinto che sia Esau e quindi gli dà la benedizione del primogenito dovete sapere che nella Bibbia il concetto di benedizione significa sempre trasmissione di beni materiali sapete noi siamo abituati pensate alla benedizione come uno che fa così dice ok mi ha benedetto sono tranquillo quando leggerete quel passo leggerete una cosa bellissima quando Esau arriva per prendere la benedizione Isacco dice no ma io l'ho già data tutta Esau gli dice ma non ne hai un po' per me cioè voi pensate una benedizione che finisce voi domani domenica mattina andate a messa arrivate in ritardo e dice al sacerdote mi dai la benedizione e il sacerdote gli dice no l'ho già data tutta i fedeli non ne ho più questo c'è scritto nella Bibbia ma non è una stupidaggine che fa ridere è la verità perché dare la benedizione siccome tutto passava al primogenito e gli altri non contavano nulla quando lui dice io ho dato tutto a Giacobbe vuol dire che tutti i beni terreni animali schiavi sono stati dati tutti a Giacobbe per te non ne ho più perché questa è la berachah nell'ebraico è la trasmissione di beni materiali ed è per questo che Esau dice ma non ne hai un po' per me e il padre gli dice no l'ho data tutta non ne ho più è chiaro cioè non è che parlassero così perché erano idioti è che data tutta a lui per te non ce n'è più non ce n'è anche una pecora è tutto suo questo ci racconta la Bibbia capite e allora il contrasto tra i due ovviamente è un contrasto continuo ad un certo punto siamo in Genesi 35 Elohim che viene usato con il verbo singolare quando intende dire che il gruppo degli Elohim stava operando assieme di concerto quindi il gruppo degli Elohim disse a Giacobbe levati sali a Betel e la risiedi allora prima di di entrare qui io parlavo fuori con Laura e Paola e adesso io dico Laura e Paola voi dovete offrire un'aranciata a quel io ve lo dico a quel Mauro Biglino che avete incontrato lì fuori voi siete persone educate e non mi dite che cosa state pensando di me ma dite ma sei un coglione non sei tu cioè io che vi dico a quel Mauro Biglino che avete e sono io no sentite cosa dice Elohim disse a Giacobbe costruisci in quel luogo un altare al El che ti è apparso quando fuggivi dalla presenza di Esau cioè Dio dice costruisci un altare a quel Dio che ti è apparso quando fuggivi da Esau ma come fa Dio a dire una roba del genere è che in ebraico è scritto chiaro il gruppo degli Elohim dice costruisci un altare a quel e in ebraico c'è il singolare a quel El che ti è apparso quando fuggivi dalla presenza di Esau cioè l'altare lo devi fare a quello di noi che ti si è presentato quando scappavi a lui lo devi fare l'altare è chiarissimo è chiarissimo a lui lo devi fare quell'altare lì così Giacobbe e là egli costruì un altare chiamò quel luogo El Bet El che vuol dire El della casa di El perché là Dio si era rivelato a lui quando fuggiva dalla presenza di suo fratello ora anche qui si era rivelato o ti è apparso dovete sapere che in ebraico c'è scritto ti si è fatto vedere che sarebbe un po' come voi diceste ad un amico ma sono due anni che non mi appari no sono due anni che non ti fai vedere questo è scritto nell'antico testamento e qui dovreste fermarvi perché vi sto dando una una traduzione quindi dovreste fermarmi nel patto che abbiamo fatto all'inizio comunque in ebraico c'è scritto questo allora qui lo dice chiaramente no a quello di noi che ma la cosa bella è che Giacobbe poi dice fa un'affermazione che se pensate si è rivolta a Dio allora Giacobbe fece questa promessa se l'Elohim sarà con me e mi custodirà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane per mangiare vesti per vestire e se ritornerò in pace alla casa di mio padre allora Yahweh sarà il mio Dio sarà il mio Elohim e questa pietra che ho eletto come stele sarà una casa e di tutto questo che mi darai io ti offrirò la decima caro Elohim attenzione se farai tutte queste cose per me perché se non le fai col cavolo che io ti do la decima la do a un altro cioè come si fa a porre Dio in questo stato di ricatto se tu fai queste cose per me ti do la decima il che vuol dire se non le fai te la sogni ovvio perché questi erano tanti e come è scritto spesso nella Bibbia loro alle volte mollavano questo qui per andare da altri per esempio l'Elohim dei Moabiti che si chiamava Kamosh era un Elohim che amava praticare sesso e lo faceva praticare i suoi tant'è che spesso gli israeliti mollavano Yahweh per andare da questo è chiaro che fare sesso è meglio che fare la guerra visto che Yahweh nella Bibbia è definito Ishmil Hamah cioè uomo di guerra lo trovate tradotto uomo di guerra nelle Bibbie che avete in casa traduzione corretta nel libro dell'Esodo c'è scritto Yahweh è uomo di guerra infatti faceva solo quello allora tra l'altro ripeto questo qui faceva sesso e lui diceva se voi mi mollate per andare da uno di questi io vi ammazzo e lo faceva leggetelo lo troverete quando loro mollano lui per andare a fare sesso qui lui li ammazza non andava per il sottile questo qui di fatti aveva un epiteto cioè veniva chiamato Baal Peor che vuol dire Baal signore signore dell'esposizione degli organi genitali Peor significa questo quando la teologia si è impossessata del tutto e ha trasformato Yahweh nel Dio spirituale onnisciente trascendente onnipotente creatore dei cieli della terra e nel mondo diciamo così dell'aldilà ha ovviamente identificato anche la figura dei suoi nemici cioè i diavoli no? bene i nomi dei diavoli da dove arrivano? dagli stessi nomi che avevano i suoi rivali concreti gli Elohim concreti nella lotta quotidiana che avevano Baal Peor in greco è stato traslitterato in Baal Fegor che poi è diventato Bel Fagor quindi il nome del diavolo Bel Fagor non è altro che una invenzione derivante dalla trasposizione e trasformazione dell'epiteto di uno degli Elohim Baal Peor è diventato Bel Fagor cioè inventato Dio hanno inventato i demoni nella Bibbia non c'è neanche Satana cioè Satana è inteso come principe dei demoni non esiste cioè ve lo dico proprio in assoluta tranquillità non esiste non esiste neppure nell'Antico Testamento Satana non è altro che la definizione di una funzione cioè dell'incarico di pubblico ministero cioè di accusatore di rivale che veniva svolta pro tempore poteva essere svolta anche da uomini e per esempio in un caso viene svolta su ordine diretto di Yahweh che dice tu adesso fai da Satana contro quello là cioè fai da pubblico ministero contro quello là quando terminava la necessità terminava la funzione la teologia ha preso Satana e ne ha fatto il principe spirituale dei demoni del male non c'è non c'è neanche Lucifero Lucifero è citato nel libro di Isaia quando Isaia prende in giro uno dei regnanti babilonesi che non si sa bene se è Nabucodonos o Ronabonedo e gli dice tu che ti credevi la stella portatore di luce sei caduto come tutti gli altri e siccome la stella portatore di luce è Lucifero allora di lì è stata inventata la figura dell'angelo decaduto poi spesso abbinata a Satana per cui si dice che il tentatore di Eva è Satana Lucifero cosa che la Bibbia non dice mai 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 la unificazione tra colui che ha tentato Eva e il diavolo è una delle tante invenzioni teologiche leggetela la Bibbia non troverete mai questo accorpamento non lo troverete mai perché non c'è Satana come entità come individuo non esiste infatti mi fanno ridere quelli che dicono che io sono satanista Belfagor è quello lì ce n'era un altro che si chiamava Balzavuv che è diventato Belzebù Balzavuv significava signore delle mosche secondo una chiave di lettura secondo altre chiave di lettura era signore del potere perché dipende da come viene vocalizzato ma fa niente comunque Balzavuv diventa Belzebù Balpeor diventa Belfagor è tutto lì sotto i nostri occhi capite tutto sotto i nostri occhi possibile che non abbiate domande io vado avanti non è un problema ma non avete domande ah giusto pensavo di sfangarla allora gli Elohim erano chiaramente degli individui che avevano conoscenze e tecnologia incomparabili con quelle dei popoli che governavano la Bibbia non ci dice da dove arrivavano non ce lo dice quindi su questo bisogna essere chiari la Bibbia però nel Salmo 22 ci dice che al grande capo appartengono la terra con tutto ciò che c'è l'universo con i suoi abitanti quindi la Bibbia distingue tra la terra e l'universo con i suoi abitanti quindi questa roba qui è una dichiarazione del fatto che l'universo ha degli abitanti ok per rispondere a questa domanda dobbiamo uscire un attimo dalla Bibbia perché ripeto la Bibbia non ci dice da dove arrivano gli Elohim non ci parla dell'origine di questi qui i popoli di tutti i continenti della terra ci parlano di questi qui come dei figli delle stelle cioè di gente che è arrivata da un'altra parte è arrivata qui e ha fatto quelle cose che invece poi la Bibbia ci racconta cioè di lì in avanti il racconto diciamo così si unifica ora io ovviamente non ho nessuna prova per dire che questi qui arrivano da perché non lo so ovviamente però io faccio finta allora dico se faccio finta che ciò che c'è scritto nella Bibbia sia vero prova a fare finta che sia vero anche ciò che c'è scritto negli altri testi antichi dove ci si dice che questi qui arrivano da altre parti alcuni di questi testi ci identificano anche parti del cielo da cui arrivano per esempio nei Veda si parla di uno dei punti di arrivo nei Veda si dice che l'universo è popolato da 400.000 specie umanoidi di cui molte sono arrivate qui perché in effetti il pianeta Terra è un pianeta che dal punto di vista diciamo di eventuali scienziati sperimentatori e inseminatori di vita ha delle caratteristiche straordinarie tanto che basta guardarla nel senso che come dire consente una biodiversità straordinaria quindi per qualsiasi sperimentatore è un laboratorio fantastico allora moltissime specie sarebbero arrivate qui una di queste sarebbe arrivata da una zona che in sanscrito viene definita Mrigashiras che significa testa dell'antilope e che identifica un ammasso che si trova diciamo all'altezza della spalla destra della costellazione di Orione sapete che Orione è il gigante cacciatore della Beozia e quindi lui ha l'antilope cacciata che tiene sulla spalla e quindi la testa pende lì e quindi quell'ammasso lì si chiama Mrigashiras cioè testa dell'antilope una parte arriverebbe di lì e lì Orione ha fatto appunto sapete le quattro grandi stelle quindi Betelgeuse tra l'altro questa stella si chiama Betelgeuse quella alla spalla destra e Betel in ebraico significa casa di El in realtà in arabo Beteljausà significherebbe cioè il braccio del gigante quindi c'è Betelgeuse Bellatrix Rigel e Safir e poi Alnitaka che sono le stelle della cintura di Orione quindi una parte arriverebbe da quella zona lì del cielo questo ci dicono i Veda per cui se noi facciamo finta che sia vero ciò che ci dicono i testi antichi prendiamo atto che questi qui erano figli delle stelle cioè che sono arrivati qui da un'altra parte ripeto non ho nessuna prova per sostenere questa tesi però siccome ritengo che non avessero tanto tempo da perdere perché noi ci mettiamo al computer poi non ci piace cancelliamo allora scrivere era costosissimo da tutti i punti di vista cioè costava molto ma non dico semplicemente in termini economici o finanziari ma voglio dire significava preparare delle persone e poi con tutto quello che questo comportava e quindi forse questi qui tenevano a memoria dei fatti veramente importanti per la storia dell'umanità e lo facevano sotto dettatura cioè come dire a parte qualcuno che diceva scrivi perché ti racconto come sono come sono andate le cose anche quindi come abbiamo fatto voi quindi se noi prendiamo atto facciamo finta che ciò che dicevano gli antichi sia vero questi qui arrivano da altre parti ok quindi questa è la risposta non sono in grado veramente di provare perché non ho prove altrimenti sarebbe tutto più facile ma le prove non le ho ovviamente però faccio finta che i testi antichi esattamente come lo faccio con la Bibbia ripeto quello che ho già detto prima non so se è vero ma certamente è coerente cioè tutto questo spiega molto spiega il fatto che noi siamo per il pianeta Terra dei disad cioè noi come umanità siamo dei disadattati cioè nel senso che se noi guardiamo qualunque essere vivente qualunque dalla giraffa all'aquila a quel che volete vedete che ogni essere vivente nasce geneticamente strutturato per essere adatto a uno o due o tre ambienti naturali ben precisi ogni essere vivente io vi sfido a trovare un ambiente naturale per il quale l'uomo sia per natura adatto a viverci così come nasce non ce n'è uno noi noi non abbiamo più protezioni i geni che producono i peli in noi sono silenziati quindi non abbiamo protezioni per il corpo non abbiamo le zanne non abbiamo gli artigli non abbiamo nessun senso sviluppato in un modo particolare per cui né l'olfatto né l'udito noi per sopravvivere siamo costretti ad adattarci a tutti gli ambienti naturali e siamo costretti soprattutto a modificarli in modo da renderli per noi vivibili perché noi siamo dei disadattati rispetto al pianeta Terra tra l'altro c'è un altro fatto noi abbiamo si dice no l'evoluzione noi arriviamo non diciamo dalle scimmie perché da un progenitore comune ma noi abbiamo 46 cromosomi e tutti gli altri ne hanno 48 e noi abbiamo 46 cromosomi per via del fatto che in origine il cromosoma 2 e il cromosoma 3 si sono uniti questa è una mutazione come spiegano i genetisti se avviene in natura è mortale per l'individuo cioè l'individuo non sopravvive si chiama perché poi lo si fa come ingegneria genetica traslocazione roberzognana cioè vengono uniti due cromosomi combinazione il cromosoma 2 e il cromosoma 3 si sono uniti in una porzione che è assolutamente ininfluente cioè per cui ha continuato a renderli funzionali non solo perché questo si sia trasmesso è stato necessario che questo evento assolutamente casuale si sia verificato in un mar almeno in un maschio il maschio si è sopravvissuto si sia verificato in una femmina e questa si è sopravvissuta i due si siano incontrati nelle foreste si siano uniti con i due lì abbiano fatto dei figli che sono sopravvissuti statisticamente non esiste non esiste cioè non esiste in natura la possibilità che questo sia avvenuto cioè che due individui abbiano subito questa modificazione che è mortale si siano sopravvissuti tutti e due si siano incontrati abbiano fatto sesso abbiano fatto dei figli tant'è che i genetisti che scrivono nei libri con i quali sto collaborando scrivono questa cosa è spiegabile soltanto se c'è stato un gruppo di maschi e un gruppo di femmine su cui è stata prodotta questa traslocazione roberzoniana sotto controllo sono stati fatti incrociare sotto controllo è stata controllata la progegne per un certo periodo di tempo e dopo è stata diffusa e la traslocazione roberzoniana ha avuto un significato molto preciso siccome bisognava perché questo ce lo dicono ancora i testi antichi costruire una specie di individui in grado di capire e eseguire ordini anche complessi bisognava che mentre si faceva questo esperimento questi non si unissero più con le specie precedenti o meglio se anche si univano non dovevano più fare figli e l'unico modo per rendere incompatibili i due patrimoni genetici era fare sì che quegli altri continuassero a averne 48 e noi 46 così se anche facevano sesso non erano non erano tra loro fertili perché i 46 non si uniscono i 48 quindi è un qualcosa di fatto specificamente vi ho detto prima che noi abbiamo i peli silenziati i geni salvo non nel caso mio quelli dei capelli che crescono all'infinito e questa è una roba che la natura l'evoluzione avrebbe selezionato immediatamente perché in un ambiente selvaggio avere un individuo che ha 5 metri di capelli cioè non ci arriva neanche a 5 metri di capelli muore prima perché non è in grado di inseguire una preda non è in grado di sfuggire una preda se finisce in acqua muore annegato è una roba che sarebbe stata eliminata totalmente perché noi abbiamo questa parte qui perché piaceva a loro tant'è e lo dice ancora una volta anche qui anche Paolo guardate un po' quante cose ci dice Paolo la donna deve portare un segno di dipendenza sul capo a motivo a motivo degli angeli cioè tutti noi diciamo che la donna si mette il velo per rispetto verso Dio col cavolo a motivo che vuol dire a causa degli angeli perché quelli erano attratti sessualmente dalle ragazze giovani con i capelli lunghi tant'è che ne parla addirittura Tertuliano nel De Virginibus Belandis dice che le ragazze che partecipano all'assemblea alle quali sono presenti gli angeli si coprano il capo a loro tutela per non eccitarli sessualmente nei testi di Qumran c'è scritto che le ragazze che partecipano all'assemblea alle quali sono presenti malachim a loro tutela si coprano il capo a loro tutela non per rispetto cioè noi ci facciamo i cani con la coda riccia le gambe corte il muso rincagnato eccetera loro ci hanno fatti con questa parte qui perché piaceva a loro gli altri peli li hanno silenziati la natura non avrebbe mai fatto una roba del genere o li silenziava tutti o ci lasciava come prima con la copertura c'è un altro animale che ha i peli che crescono all'infinito ed è la peccora e la peccora secondo la paleogenetica è uno uno degli animali prodotti artificialmente tant'è che tutti gli ovini che vivono in natura non hanno i peli che crescono all'infinito la pecora sì tant'è che bisogna tosarla e l'assitosa perde i fini precisi i camosci no nessun animale neanche quelli che vivono al freddo ha il pelo che cresce all'infinito nessuno noi abbiamo io no voi avete questa roba qui che cresce all'infinito che è una roba che in natura non esiste e qui ci dice che qui a motivo di copritevi la testa di là ci dice a motivo di copritevi la testa perché quelli non vanno per il sottile sono eccitati sessualmente quindi ci hanno fatto delle cose che a loro piacevano quindi ci hanno tolto dei peli che a loro non piacevano e hanno lasciato dei peli che a loro piacevano siamo degli animali di allevamento questo capisco che può essere come insomma da un certo punto di vista un po' deludente secondo me è molto affascinante perché intanto ci aiuta un pochettino a capire che cosa siamo ma se non basta se non basta non siamo cioè non hanno operato soltanto su di noi non hanno operato soltanto su di noi e qui facciamo parlare la scienza ufficiale così se lo trovo le scienze agosto 2014 un mostro chiamato frumento ora noi sappiamo che per quanto riguarda la nostra parte dell'emisfero del pianeta il grano ha nutrito nella storia milioni di persone perché ha tutta una serie di tanto appunto perché nutre facilmente perché è lavorabile ma soprattutto perché è stoccabile e conservabile allora cosa ci dice la genetica ufficiale sul grano ci dice che è avvenuto un evento genetico che non sarebbe mai potuto avvenire cioè la componente selvatica del triticum urartum cioè un farro selvatico ha fuso il suo intero genoma con quello di un'altra graminacea e ne è nata una nuova specie selvatica che conteneva tutti i geni di entrambi i donatori e questa roba in natura non può avvenire non avviene cioè se succede casualmente questa fusione l'individuo muore il triticum da cui tutto è partito è un vero e proprio lo definiscono qui mostro genetico non può esistere ma attenzione circa 8.000 9.000 anni fa nella regione compresa tra l'attuale Armenia e il sud ovest del Mar Caspio esattamente dove si colloca il Gan Eden biblico avvenne un secondo evento genetico fra virgolette impossibile un'altra fusione ma non è mica finita in seguito una serie di ulteriori modifiche genetiche ha portato al nostro triticum estivum il grano con cui facciamo il pane eccetera cioè l'alimento che qui da noi questa parte dell'emisfero del pianeta ha nutrito nella storia milioni di uomini è frutto di una serie di eventi genetici impossibili ma sono avvenuti e non sono avvenuti nella margherita nella violetta sono avvenuti in un alimento che era funzionale che ha nutrito milioni di lavoratori da loro fabbricati tutti eventi genetici impossibili ma lo dice la scienza ufficiale e guarda caso sono avvenuti dove dove i testi antichi ci dicono che c'erano quelli lì che operavano cioè guardate che sono coincidenze veramente è avvenuto proprio su quello ne sono avvenuti tanti nel corso di alcune migliaia di anni quindi che hanno portato esattamente a ciò che serviva ma non è mica avvenuto soltanto con quello contemporaneamente dall'altra parte del mondo la stessa cosa cioè la stessa serie di eventi genetici impossibili è avvenuta sulla patata un OGM naturale OGM e noi sappiamo che nel continente americano la patata commestibile ha nutrito milioni di persone esattamente come da noi il grano e che cosa è avvenuto là? che il DNA dell'agrobacterium si è inglobato completamente nel DNA della patata selvatica rendendola commestibile questa roba qui in natura non può avvenire difatti dice che si tratta di un trasferimento genico orizzontale e in genere questo batterio riesce a trasferire solo una ristretta porzione delle cellule di una pianta ma in questo caso virgola proprio come avviene per gli OGM in laboratorio la cellula con il DNA inserito riesce a moltiplicarsi e a formare un intero nuovo esemplare come avviene con gli OGM in laboratorio non in natura e quindi ha generato una progenne di individui che recano il DNA alieno alieno inteso come diverso ed estraneo non alieno e questo è avvenuto diecimila anni fa in Peru cioè mentre di qui eventi genetici impossibili portavano alla fabbricazione del grano di là evento genetico impossibile ha portato alla fabbricazione dell'altro grande alimento che ha nutrito milioni di persone ma è possibile che sia tutto casuale? è possibile che sia tutto casuale? visto che i testi antichi ci dicono che là e qui c'erano quelli lì che operavano e facevano queste robe basta che mettiamo insieme le due cose non c'è bisogno di inventare nulla perché altrimenti qualcuno deve dare la spiegazione al fatto che c'è stata una serie di eventi genetici impossibili che si sono però verificati ma se sono impossibili e si sono verificati la domanda è chi li ha fatti verificare? i testi antichi ce lo dicono dopodiché noi possiamo crederci o no ognuno faccia la sua scelta però queste cose qui ci sono sono lì davanti ai nostri occhi le dice la scienza la scienza capite che insomma a forza di mettere assieme le cose a forza di fare finta ripeto si costruisce un quadro che è coerente poi io non so se è vero perché per dire che è vero dovrei avere le prove che non ho ma è coerente cioè se mettiamo assieme tutti questi tasselli il mosaico che si compone funziona voi mettete assieme i tasselli delle interpretazioni esegetiche filologiche teologiche mettetele assieme leggendo la bibbia leggendo ciò che dicono e poi stabilite voi se funzionano oppure no fatelo autonomamente fatelo autonomamente mettete assieme questi tipi di tasselle e mettete assieme quegli altri tipi di tasselli tanto l'unica cosa che conta è ciò che pensate voi perché non c'è da sostituire una verità con un'altra nel modo più assoluto si tratta di sostituire una religione con un'altra un pensiero con un altro si tratta di dire che i testi antichi al di là di ciò che gli anzi molto prima di ciò che viene fatto loro dire dicono delle cose precise facciamo finta che quelle cose precise siano vere e vediamo che cosa ne viene fuori punto finito ci piace lo teniamo non ci piace lo buttiamo che problema c'è però facciamo questa prova perché altrimenti continuiamo a mantenere soltanto quelle spiegazioni là e se quelle spiegazioni là le caliamo nella Bibbia vi dico il mio pensiero ma voi lo dovete verificare non tornano non c'è nulla che funziona voi provate a leggere la Bibbia in questo modo qui e provate a leggerla considerando che questo sia sempre lo stesso Dio sempre l'unico capirete vedrete che la Bibbia è un papocchio incomprensibile incomprensibile pieno di contraddizioni me ne fate vedere alcune no? cioè questo che giura su una cosa è il fratello che giura sulle pietre questo che dice il mio Dio mi ha dato della roba e me la tengo il tuo mucchietto di pietre ti ha dato della roba cioè non c'è niente che funziona niente d'altra parte porca miseria domani mattina finisce la nostra civiltà dico domani mattina così finisco la conferenza domani mattina finisce finisce la nostra civiltà disastro tra 3.000 anni arriva qualcuno a scavare qui trova migliaia di statue in gesso in pietra in metallo in plastica in gomma in legno in quel che vuole di uno inchiodato su una croce migliaia fa tutte le ricerche documentali e arriva alla conclusione che dell'esistenza di questo qui non c'è nessuna prova storica com'è? com'è? non c'è nessuna prova storica ve l'ho detto prima poi trova migliaia di altre statue e fa una ricerca su questa religione dice dunque 3.000 anni fa c'erano delle persone che adoravano uno che dicevano essere uno di cui non c'è nessuna prova storica dell'esistenza dicevano che questo qui fosse figlio di un dio di cui non c'è nessuna prova storica dell'esistenza poi si sono creati tutta una serie di divinità intermedie quindi penso alle statuette di padre Pio di tutto quel che volete tutta una serie che servivano da intermediari tra loro e questo dio qui di cui non c'è nessuna prova dell'esistenza 3.000 anni fa la terra era popolata da idolatri o no? cioè se noi applichiamo alla nostra cultura attuale quel criterio interpretativo che viene applicato per dimostrare che quelli lì erano dei poveri pagani questi qui scusate questi qui erano dei poveri pagani idolatri tutti i cristiani devono rassegnarsi all'idea che tra 3.000 anni saranno considerati degli idolatri perché questo è arrivo poi a un certo punto per un certo numero di secoli non si è mai sentito parlare poi da un certo punto in avanti a quello lì che ho dato in croce hanno cominciato a dire che anche sua madre era divina quindi anche lei faceva dei miracoli queste statuette poi queste qui si facevano delle statuette e pregavano di fronte a queste statuette avete mai sentito dire io sono devoto della Madonna di Lourdes io invece sono devoto della Madonna di Međugorje avete mai sentito dire io invece ma questa non è idolatria io sono devoto della Madonna di Lourdes io invece prego la Madonna di Međugorje non è idolatria è uscita una rivista che è il mio Papa che è dedicata esclusivamente a Papa Francesco sulla copertina del numero c'è scritto le cinque madonne che Francesco prega le cinque madonne quando tra tremila anni troveranno quella rivista lì cosa diranno? che il capo di quella religione era un idolatra perché pregava cinque figure della madre del Dio che si sono inventato perché di quel Dio non c'è nessuna prova storica della sua esistenza ma è o non è così porca miseria? cioè che cosa abbiamo di diverso noi rispetto a quelli lì? ma non ci compriamo le statuette di Padre Pio perché ci sembra che parlare con la statuetta Padre Pio sia più vicino? ma questa è o non è idolatria? non ci portiamo a casa le statuette della Madonna di Lourdes perché ci sembra che così con la plastica lì ce l'abbiamo più vicina? ma è o non è idolatria questa qui? esattamente come quella là la differenza qual era? che mentre lui lui questo qui ai suoi aveva dato ordine di me non farete nessuna rappresentazione e qui sarebbe interessante capire perché lui non voleva farsi vedere questi altri non avevano questa proibizione e quindi esattamente come noi siccome i loro capi erano lontani si facevano le statuette così come noi ci facciamo le statuette di Gesso di Padre Pio non c'è nessuna differenza con che diritto diciamo che quelli erano i poveri stupidi idolatri invece noi invece noi siamo uguali siamo uguali ci mettiamo Padre Pio sul comodino ci mettiamo la Madonna di Lourdes mentre gli altri si mettono la Madonna di Međugorje e il Papa ne prega cinque c'è scritto nella sua rivista prego cosa ne facesse e se gli altri Elohim avevano la stessa usa e costume ok allora in Ezechiele 20-25 lui dice spersamente e io in origine ho dato ordine di passare siccome queste qui non volevano piegarsi ai miei ordini avevo dato ordine di passare per il fuoco tutti i loro primogeniti perché loro capissero che io sono quello che comanda e quindi se li faceva bruciare nella Bibbia c'è scritto ripetutamente lo leggete nel libro dei numeri capitolo 28 che loro si facevano bruciare il grasso degli animali e dei cuccioli di uomo perché il fumo prodotto da quel grasso li calmava questo lo trovate nella Bibbia anche in casa perché quel fumo mi calma e lui c'era un particolare tipo di grasso che era riservato a lui e che lui descrive espressamente leggo la traduzione della conferenza episcopale italiana in Levitico 3 Levitico 3 versetto 3 di questo sacrificio offrerete consumato dal fuoco per Yahweh il grasso che avvolge le viscere tutto quello che vi è sopra i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni è Dio che parla cioè dà una indicazione di macelleria precisissima quel grasso lì è mio e quando leggerete la Bibbia troverete in altri passi che c'è scritto se trovate qualcuno che usa quel grasso per lui lo ammazzate perché quel grasso è mio e quel grasso andava bruciato per essere trasformato in fumo perché quel fumo lo calmava e lo troverete scritto nel libro dei numeri e questo fumo ripeto derivava sia dal grasso degli animali trattato in quel modo lì sia dal grasso dei cuccioli di uomo questa roba qui nell'Irie dell'Odissea è scritta più di 30 volte cioè i teoi greci volevano esattamente ciò che volevano gli Elohim biblici non c'è più nel libro La Bibbia non parla di Dio di Mondadori io ho analizzato quella che si chiama la stella di Mesha Mesha è il re dei Moabiti che parlando del suo Kamosh racconta esattamente le stesse cose che la Bibbia degli Israeliti racconta di Yahweh esattamente le stesse cose nella Bibbia troverete scritto quando la leggerete che il re dei Moabiti cioè questo Mesha durante una delle battaglie tanto per cambiare contro quelli là era assediato e per chiedere l'aiuto del suo Elohim gli dice se tu mi aiuti io ti brucio il mio primo genito e glielo brucia perché questo esattamente come Yahweh erano tutti uguali quindi lui gli brucia il suo primo genito nella battaglia tra quello che vi dicevo prima di Iefte contro gli Ammoniti quando gli dice il tuo Elohim ti ha dato il mio Elohim mi ha dato Iefte dice a Yahweh se tu mi aiuti nella battaglia io ti brucio la prima quando torno a casa ti brucio la prima persona che mi viene incontro da casa mia la prima persona che gli viene incontro è sua figlia primo genita e lui gliela brucia questi erano gli Elohim biblici altro che Dio e tutti uguali cioè non è che Yahweh fosse peggiore rispetto agli altri tutti volevano le stesse cose tutti volevano le stesse cose quando in una di queste in una di queste battaglie contro i Madianiti discendenti diretti di Abramo che qui è definita la guerra santa contro i Madianiti che era la guerra di sterminio dei Madianiti guerra santa invece l'Isis no quella dell'Isis è Barbara questa qui era la santa la radice è la stessa quindi tornano numeri di Ro avete lasciato in vita tutte le femmine ora fate così versetto 17 uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo cioè c'è una madre con un figlio quindi si è unita con un uomo uccidete tutti e due tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le conservate in vita per voi e uno dice vabbè quando noi sentiamo ragazze diciamo vabbè si sono tenute le diciottenne le ventennie le ventesine vabbè ok il problema è che in ebraico non c'è scritto così comprate no fatevi prestare insomma quel che volete la Bibbia pubblicata dalla Giuntina traduzione interlineare con l'ebraico traduzione del rabbino Rav Dario di Segni e la Bibbia è Pentateuco e Aftaroth e trovate la traduzione giusta esattamente come è scritto in ebraico tenete per voi tutte le bambine che non si sono unite con un uomo non le ragazze nell'ultimo libro Mondadori che stasera è finito in un attimo c'è un lungo capitolo dedicato a questo aspetto con la tradizione rabbinica dove era lecito fare sesso con le bambine di tre anni e un giorno e qui c'è scritto tutte le bambine qui invece per le Bibbie nelle famiglie tutte le ragazze perché è accettabile se prendete le Bibbie tradotte dagli ebrei c'è scritto le bambine e uno dice vabbè com'è coerente che si no 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 ma qui no no qui parla di ragazze eh purtroppo si 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 ok ah si coerente ho capito nel senso che praticano ancora si poi però alla fine quindi qui c'è Mosè che dice questo e qui c'è la spartizione del bottino di guerra a Dio che cosa aspetta dopo questa campagna militare 675 pecore 72 buoi 61 asini e 32 persone viventi siccome le uniche persone viventi sono le bambine cosa se ne fa Dio di 32 bambine aveva una nursery un asilo infantile o ci faceva sesso o se le faceva bruciare ma è qui tenete in vita le bambine 32 le prendo io prego professore perché come dice lei io ti riesco a un pro di genna quando funge non esegue gli ordini di avere finisce il fuoco a male e viene impiottito da un pesce se facciamo un pacchetto dovrebbe essere quello che è successo poi senza offesa da persone sarebbe vero anche di rompio la stessa storia che mi è raccontata viene il dubbio io personalmente ho pensato che quello non fosse un pesce in altri racconti è stato che lui guardava fuori dove le finestre erano condotte e questa è una ripressione molto semplice nel senso che è poi riguarda e mi riferisco anche alla conoscenza insomma poi diceva infatti non fosse per vivere come brutti ma perseguire il tuo è conoscenza ma il problema se noi come dice lei nella produzione che ha fatto è l'uomo è stato fatto per l'amorare non perseguire il tuo è conoscenza ecco vorrei una ripressione sua non ha risposto questo ce lo ce lo dicono tutti compresa la Bibbia noi siamo stati fatti per amare e servire Dio cioè amare e servire gli Elohim prego chi è nobile ah sì certo il lavoro è veramente una condanna anche perché in realtà noi lavoriamo per pagare l'energia quando secondo certa fisica noi ce l'avremo tutta gratis ma quella fisica lì non deve passare vabbè lasciamo stare parlo di Bibbia sì la riflessione è questa poi dopo noi come dire siamo andati avanti e stiamo andando avanti anche per conto nostro quindi chiaramente noi cerchiamo di arrivare a sapere anche perché probabilmente da un certo punto in avanti siamo anche numericamente sfuggiti un po' il controllo no? e quindi però l'inizio noi siamo stati fatti per lavorare per loro su questo non ci sono non ci sono dubbi chiunque fossero chiunque fossero noi siamo stati fatti per lavorare come schiavi per la verità continuiamo a esserlo perché il sistema finanziario che ci governa è quello descritto nella Bibbia su questo non ci sono dubbi non cambia di una virgola voi non presterete mai denaro non vi farete mai prestare denaro dalle nazioni voi presterete denaro alle nazioni perché chi presta denaro è padrone e chi riceve denaro in prestito è schiavo basta guardarci attorno quindi il sistema finanziario è quello lì non ci sono dubbi quindi noi continuiamo a lavorare a produrre per con sistemi diversi ovviamente allora magari facevamo lavori come ci raccontano i testi antichi lavori fisici adesso altri tipi di impegno ma insomma il significato e il fine è sempre quello lì dopodiché noi come dire siccome tra le varie quelle 11-12 sequenze geniche che noi abbiamo dentro e che nessuno sa spiegare da dove arrivano che sono quelle che fanno sì che noi siamo sapiens che sono quelle che regano il cosiddetto processo di encefalizzazione che è andato avanti con una velocità spaventosa impensabile in natura e questa roba qui ovviamente ci ha dotato poi anche di capacità di ragionamento autonomo e quindi è chiaro che noi andiamo avanti anche per conto nostro no? quantomeno nel seguire virtù e conoscenza cioè cercare di capire come stanno le cose quello che stiamo facendo ecco cercare di capire quale potrebbe essere la nostra vera storia perché forse quella che ci hanno raccontato non tiene più quindi questa è un pochettino la riflessione prego nella Bibbia si parla anche dei giganti quindi c'è un riferimento anche di c'è una spiegazione di un riferimento allora nella Bibbia si parla dei giganti in alcuni passi lui li nomina severamente lì si parla dei giganti perché la cosa non è sicurissima è quando nel capitolo 6 della Genesi c'è scritto che i figli maschi degli Elohim videro che le femmine adame erano appetibili si unirono con loro e fecero dei figli questi figli vengono chiamati Ghiborim Ghiborim vuol dire uomini potenti uomini famosi cioè in mezzo sangue e la cosa bella è che nel capitolo 6 della Genesi quando si parla dei Ghiborim si dice allora chi ha studiato la storia greca insomma quello che viene chiamato il mito greco no? sa chi sono gli eroi i mezzo sangue quindi figli di uno di loro e di una di noi o di una di loro e di uno di noi ok? Ercole piuttosto Gilgamesh invece per quanto riguarda i racconti medio orientali eccetera quindi tutti dei mezzo sangue questi qui dei mezzo sangue sentite cosa dice la Bibbia sono questi i famosi eroi dell'antichità cioè esattamente come per i racconti greci gli eroi dell'antichità sono i mezzo sangue scritto qui e dice c'erano i giganti sulla terra a quei tempi e anche dopo quando i figli degli Elohim si accostarono alle figlie degli uomini quindi quando gli Elohim si univano alle figlie degli Adam sulla terra c'erano i giganti qui non ci dice che i giganti erano i figli di quelle unioni perché i figli di quelle unioni sono chiamati gibborim il termine ebraico per giganti è nefilim però c'è una parte dell'esegesi ebraica che dice che è sbagliato tradurre nefilim con i giganti cosa che hanno fatto invece i greci che hanno tradotto con gigantes dice perché qui e qui cambiano la vocalizzazione e dicono che in realtà nefilim significherebbe gli aborti cioè una parte dell'esegesi ebraica dice che quando si univano gli Elohim con le Adam praticavano l'aborto selettivo cioè uccidevano i feti maschi e facevano nascere soprattutto femmine e nefilim che viene vocalizzato diversamente significherebbe appunto gli aborti cioè quelli che venivano fatti cadere il che vuol dire che erano in grado di fare comunque un esame prenatale cioè per capire se il feto era maschio o femmina e il feto maschio lo eliminavano lasciandone in vita qualcuno ok quindi questa parte qui può significare giganti ma potrebbe anche non significare giganti poi la Bibbia però ci parla dei giganti li chiama Anakim Refahim Zamzumim Efim e ci dice che dormivano per esempio in un posto ci dice si può ancora vedere il letto dove dormiva uno di quelli che è lungo quattro metri e largo due e in due passi la Bibbia ci dice che questi qui avevano sei dita per ogni arto e per essere sicuri che il lettore capisca c'è scritto ventiquattro dita in tutto cioè come dire non mi sono sbagliato sei dita per ogni arto sei per quattro ventiquattro quindi i giganti dormivano in letti lunghi quattro metri larghi due e avevano sei dita per ogni piede e sei dita per ogni mano ok che quindi vengono distinti pare vengono distinti dagli Elohim tant'è che quelle poche altre volte in cui la Bibbia ci parla dei giganti ci dice che combattevano nelle file dei filistei contro gli israeliti quindi erano ostili all'Elohim Yahweh ok quindi questo è ciò che ci racconta la Bibbia va bene mi piace essere per portezia potrebbe leggere il capitolo 4 dell'Apocalisse e digami quello che pensa perché l'Apocalisse vi chiederebbe un'unissima parte e prenderne un pezzo e leggerlo non avrebbe significato nel senso che l'Apocalisse viene in genere inteso come testo profetico in realtà potrebbe essere un testo scritto in codice per le nascenti chiese di allora con esclusivo riferimento a ciò che succedeva allora le faccio un esempio e per questo le dico che mettersi a commentare un pezzo sarebbe veramente sì 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 lo so lo so lo so però sarebbe non è una domanda sarebbe una cosa veramente molto molto lunga molto molto lunga preferirei non farlo le faccio un esempio per dire sapete che nell'Apocalisse si parla del 666 il numero della bestia che viene interpretato in un sacco di modi diversi eccetera 666 potrebbe essere la trasposizione numerica del testo greco Caesar Nero cioè l'imperatore Nerone tant'è che per esempio allo stesso passo nel papiro di Ossirinco che è un papiro più antico rispetto a quelli da cui deriva l'Apocalisse il 666 non è 666 ma è 616 che sarebbe la trasposizione numerica del nome greco di Caligola che è l'imperatore che c'era prima di Nerone quindi come dire sarebbe un testo che veniva cambiato mano a mano per esempio che in quel caso cambiava l'imperatore quindi cambiava riferimento numerico il suo nome per questo dico cioè leggere un singolo passo richiederebbe che dovessi fare tutta l'introduzione che ho fatto per l'Antico Testamento lo so che poi si parla anche di possibile tecnologia si parla di questa Gerusalemme celeste come di un qualcosa di enorme che arriverà qui e porterà via un sacco di gente tra l'altro anche dove si parla dei 144.000 in realtà poi si dimentica che subito dopo c'è scritto che tutti quelli che saliranno lì che saranno i salvati sono di un numero che non è quantificabile quindi non è vero che ne salvano 144.000 ma ne salverebbero molto di più però il discorso dell'Apocalisse è veramente richiederebbe una conferenza abbia pazienza arrivederci grazie una sua opinione sul futuro come si? io il futuro geopolitico attuale una sua opinione nel senso abbiamo parlato nel passato facendo conto che alcuni di questi eroi si è qui se sono qui bisogna vedere chi vince nel senso che siccome questi sono potenti se sono qui questi sono potenti ma non onnipotenti il che vuol dire che se anche hanno dei disegni poi in realtà non sempre ciò che uno pensa ciò che uno ha come obiettivo poi si realizza allora diciamo così che se questi sono qui e se questi stanno governando più che un pensiero io posso formulare una speranza che prima o poi in un qualche modo si manifestino per ridare un nuovo ordine ma non il nuovo ordine mondiale di cui si parla che è un nuovo ordine intendo dire per dare nuova chiarezza o forse una chiarezza definitiva a ciò che noi veramente siamo ecco questo non è un pensiero ma una speranza cioè sapere ciò che veramente siamo come? siamo nei bambini sperare è lecito io spero sì cosa c'è la morte cosa dice la tizia? la morte cosa dice la tizia? la morte coelet 319 infatti la sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali come muoiono questi così muoiono quelli gli uni e gli altri hanno uno stesso respiro vitale senza che l'uomo abbia nulla in più rispetto all'animale gli uni e gli altri sono vanità essi vanno tutti verso lo stesso luogo gli uni e gli altri vengono dalla polvere gli uni e gli altri tornano alla polvere cioè io non so se questo è vero oppure no potremmo pure dire che chi ha scritto questo passo non capiva nulla perché esiste l'anima esiste l'immortalità io questo non lo so lei mi ha chiesto cosa dice la Bibbia lo hanno il primo Caino Caino Ciccerele mi viene lanciato da Daneden però non ho capito questo questo qua qui non fuori trova moglie ma fuori da Daneden chi c'era come popolazione quindi dentro da Daneden erano Amosampie e Sanche allora se vogliamo fare una distinzione diciamo così che gli adamiti erano una specie particolare geneticamente più pura che loro si erano fatti per loro e doveva stare dentro il Ganeden poi quando è successa quella roba che non doveva succedere loro hanno temuto che diventassero un po' troppo potenti e per evitare che avessero accesso alle altre pratiche che erano riservate agli Elohim li hanno cacciati cacciandoli fuori però c'erano i sapiens normali il sapiens risulterebbe siccome deriva da quella traslocazione roberzoniana è sempre un prodotto loro poi all'interno del sapiens loro si sono fatta questa specie particolare che è quella degli adamiti che è la specie di cui si occupa la Bibbia perché la Bibbia non si occupa dell'umanità si occupa degli adamiti che sono un gruppo particolare dal punto di vista genetico molto più puro rispetto agli altri perché aveva più componente genetica loro anche perché loro si univano sessualmente con le femmine adam mentre il sapiens continuava per conto suo tant'è che Caino quando uccide Abele che viene allontanato dal clan familiare dice ma se voi mi allontanate di qui chiunque mi incontrerà mi ucciderà perché lui temeva di finire in mezzo quegli altri che rispetto a loro erano dei barbari perché loro erano un gruppo molto acculturato perché stava a contatto con gli Elohim mi spiego? gli altri erano i sapiens normali che stavano facendo insomma il loro normale processo che venivano utilizzati eccetera ma non avevano lo stesso trattamento né genetico né culturale diciamo così di cui invece godevano gli adamiti che è il gruppo di cui si occupa la Bibbia ma direi da un certo punto in avanti sì cioè nel senso allora noi pensiamo una cosa che Adamo e Deva si possono collocare intorno al 4500 avanti Cristo cioè sono molto vicini a noi a Adamo e Deva cioè gli adamiti e questo deriva da tanti tipi di calcoli fatti a partire anche da premesse diverse 4500 4200 avanti Cristo quando questi vengono allontanati di lì quindi questo clan tribale perché non è che ci fosse una e una no? perché per farli riprodurre avevano vari maschi varie femmine eccetera quando questi vengono allontanati quindi questi portano fuori e siamo nel nord della Mesopotamia quindi poi sciamano lungo il territorio portano fuori tutte le loro conoscenze l'antropologia e l'archeologia che cosa ci dicono? che nel quarto millennio avanti Cristo in Mesopotamia compare senza alcuna storia pregressa una civiltà completamente formata cioè i sumeri appena appaiono sulla storia conoscono la scrittura l'arte della costruzione l'agricoltura l'astronomia la matematica la scrittura allora noi abbiamo un testo che ci dice che un gruppo fortemente acculturato viene fatto uscire dal Gan Eden che significa giardino recintato e protetto quindi questo laboratorio nel quale non si poteva entrare questi qui sciamano lungo la Mesopotamia e l'archeologia ti dice che lì improvvisamente compare una civiltà che è già completamente formata se mettiamo assieme le due cose ci viene da dire che gli adamiti sono i sumeri cioè cacciati di lì loro cominciano a vivere in Mesopotamia e improvvisamente compare questa civiltà che teoricamente potrebbero essere proprio loro ok? guarda la sirpa la serpente e i loro contropposti allora quando Eva fa quella roba che non doveva fare cioè pare che si sia unita sessualmente con un Elohim da cui e da questa unione sessuale sia nato Caino i capi degli Elohim dicono in effetti e poi lei si unisce poi con Adamo e nasce Abele come secondo genito i capi degli Elohim dicono che ci sarà sempre inimicizia tra la stirpe del serpente tra la tua stirpe e la stirpe del serpente cioè lì paiono essere identificate due discendenze due linee una che è quella diciamo così Cainita che deriva dall'unione sessuale tra Eva e in alcuni scritti rabbinici c'è scritto che Eva potrebbe aver subito una violenza sessuale cioè essere stata obbligata insomma avere questo rapporto sessuale e poi invece c'è la discendenza adamitica che sarebbe quella pura cioè quella fatta esclusivamente proprio da Adamo ed Eva diciamo così quindi da questi due individui che condividevano il patrimonio genetico e quindi lì si pone questa distinzione dice che tra le due stirpi ci sarà sempre rivalità ok dopodiché la Bibbia fa un sacco di confusione nel senso che quando ci parla delle due stirpi confonde anche i nomi per cui diventa difficilissimo nel senso che mette nomi uguali o nomi simili in tutte e due le stirpi per cui diventa difficilissimo identificarle ora siccome poi come dire vivevano sullo stesso territorio è possibile anche pensare che a un certo punto il tutto si sia ricomposto attraverso le le unioni attraverso delle fusioni perché in realtà vivevano poi tutti lì nel territorio della Mesopotamia però lì sono identificate effettivamente due stirpi precise il che farebbe pensare appunto che ci sia una stirpe derivante dal serpente che sarebbe questo che ha diciamo tentato Eva se fa per dire no e che avrebbe avuto il rapporto sessuale con lei serpente in ebraico cioè nakashi il termine significa anche colui che detiene della conoscenza che è in grado anche di prevedere le conseguenze delle sue azioni e quindi qualcuno che deve aver fatto un qualcosa intenzionalmente in contrasto con i capi del Gan Eden che non volevano che questo avvenisse e per questo che poi viene identificata questa rivalità tra le due stirpi tant'è che poi Adamo ed Eva allora poi Caino uccide Abele tra l'altro nella Bibbia si è scritto che Abele offriva agli Elohim gli agnelli e Caino offriva i prodotti della terra e c'è scritto che gli Elohim gradivano il dono di Abele ma non gradivano i doni di Caino ora se mettiamo insieme questo con ciò che dicevamo prima che loro adoravano perché ne avevano bisogno il fumo prodotto dal grasso animale si capisce perché prediligevano il dono di Abele perché Abele gli bruciava il grasso animale Caino gli bruciava i cetrioli di cui a loro non fregava assolutamente nulla quindi c'è pure questo tipo di spiegazione per cui c'è la rivalità tra i due Caino uccide Abele dopodiché Adamo ed Eva si accoppiano nuovamente e anche lì analizzando bene ciò che c'è scritto nella Bibbia si dice che Adamo ebbe un altro figlio a sua immagine e somiglianza quindi in realtà si potrebbe addirittura pensare ad altri prodotti di clonazione fatti artificialmente per avere di nuovo individui uguali cioè se proprio si va a vedere letteralmente quello che c'è scritto e quindi fa un altro figlio diciamo così che si chiama Seth Seth fa un figlio che si chiama Enosh e la Bibbia dice che al tempo di Enosh si iniziò ad invocare il nome di Yahweh al tempo di Enosh il che vorrebbe dire che al tempo di Adamo Eva Caino Abele e Seth il nome di Yahweh non c'era la cosa è anche spiegabile nel senso che siccome da quel che par di capire lui era un militare lui con diciamo così gli ingegneri genetisti non aveva nulla a che fare quindi se su quella stirpe lì in origine operavano i genetisti lui arriva dopo a cose fatte perché lui lì non c'entrava nulla perché lui era un militare tant'è che appunto la Bibbia si dice che al tempo di Enosh si comincia a conoscere quel nome lì non prima ok poi c'è sì prego gli agoniti probabilmente possono essere proprio dei someri allora c'è qualche possibilità che il popolo ebraico discendendo dal popolo di Sen dagli agoniti possono essere possono essere magoniti e che probabilmente il fatto di sposarsi quindi fra loro e perché no sì perché no tant'è che la Bibbia nomina in sostanza tutti i popoli del Medio Oriente per esempio la Bibbia anche nomina gli Ittiti il popolo di Hatti che fino a quando non è stata scoperta la cività degli Ittiti nel Novecento si diceva che la Bibbia si era anche inventata dei nomi di popoli inesistenti poi invece si è scoperto che gli Ittiti esistono e gli Ittiti sono citati nella Bibbia ma la cosa curiosa è che la Bibbia non cita mai i Sumeri cioè non li nomina e il fatto che non li nomini e questa è la civiltà più importante che c'è stata in tutto quel territorio potrebbe derivare dal fatto semplicemente che sono loro cioè nel senso loro parlano degli altri e non citano i Sumeri perché i Sumeri sono loro vi spiego? cioè questa è una spiegazione una possibile spiegazione no? cioè gli italiani se parlano della storia d'Europa parlano dei francesi dei tedeschi degli austriesi eccetera no? parlano di tutto ciò che facevano e poi dicono noi 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 ma non è che si mettono a scrivere gli italiani facevano perché sono italiani dice i francesi facevano i tedeschi facevano poi noi ecco loro dicono noi e gli altri e i Sumeri però in questi altri non ci sono mai e chissà che la storia non derivi proprio da loro ok? prego i testi dei? ah i teschi scusa ho capito i testi non sì sì nel senso che la dolicocefalia è è un elemento che è stato trovato in varie parti del mondo è sempre comunque collegato ai governanti o alle alte caste sacerdotali ecco esattamente i faraoni ma per dire mi riferisco anche alle caste sacerdotali nell'isola all'isola di Malta piuttosto che alla dolicocefalia testimoniata in centro-sud America a parte quella artificiale dico quella naturale tipo per esempio i teschi dolicocefali senza la sutura sagittale che quelli non sono cioè quelli prodotti artificialmente comunque la sutura sagittale ce l'hanno perché tutti ce l'abbiamo quelli per esempio no e quindi insomma sì sono legati probabilmente a quelle caste lì una domanda buonasera buonasera volevo chiederle il seno che è un mandato a Carino per farlo distinguere tra i i bar o i bar che cos'è non si sa e poi la sua interpretazione sulla morativa dell'evento era effettivamente un'identificazione che si identificava fisicamente tipo per esempio il fatto non so come dire di avere meno peli degli altri oppure era l'identificazione del fatto che lui come dire parlasse una lingua e purtroppo lì ci sono un sacco di ipotesi ma tanto sono tutte solo ipotesi quindi ognuno può scegliere quella che vuole non ho elementi per dire è probabile questa piuttosto che un'altra allora per quanto riguarda la torre di Babele la Bibbia ci dice che questo popolo questa gente che si era riunita e se andiamo qui nei racconti extra biblici o anche per esempio in Giuseppe e Flavio si dice che c'erano dei popoli che avevano ricevuto l'ordine di non riunirsi ma questi contrariamente all'ordine ricevuto si sono messi assieme in un'alleanza e c'è scritto che costruivano hanno costruito stavano costruendo un centro abitato con una torre con la quale arrivare al cielo e anche questo viene interpretato in termini allegorici e metaforici come l'arroganza dell'uomo che costruisce una torre per arrivare al cielo e arrivano quegli altri e gliela distruggono e li ridividono in modo che questa alleanza non si formi più e quindi dividono le lingue la cosa curiosa è che siccome questi costruivano una torre che avrebbe consentito loro di arrivare al cielo che cosa poteva essere questa torre visto che era costruita all'interno di un centro dove si andava ad abitare con questa roba che serviva per arrivare al cielo io mi chiedo facendo sempre quegli ragionamenti da stupido se io voglio avvicinarmi al cielo invece di impiegare un sacco di mesi a costruire una torre alta a 200 250 metri in due ore salgo su un'altura di 700 metri a piedi e sono tre volte più alto della torre che avrei costruito in cinque mesi oppure salgo su una montagna altra 3000 metri visto che avevano al nord le alture dell'Urarto quindi è chiaro che è una cosa ridicola pensare che costruiscono una torre per salire cioè io vado in pianura costruisco una torre di 200 metri quando posso andare su una collina di 500 ci vado in due ore quindi è chiaro che non si riferisce a quello visto che lì si era nel periodo in cui loro si combattevano tra di loro con le loro armi la cosa più probabile è che quella fosse una rampa di lancio che tra l'altro è pure presente nella nella Bibbia per esempio nelle visioni di Zaccaria Zaccaria dice chiamiamo le visioni cioè nelle cose che ha visto che a un certo punto vede arrivare una Megillah volante cioè un cilindro volante e ne dà anche le dimensioni 20 metri per 5 dopodiché arriva un altro oggetto volante che si chiama EFA che non viene mai tradotto perché non si sa come tradurlo per fortuna un EFA volante che si posa a terra ha una bottola metallica che viene aperta e dentro c'è una femmina che lo pilota dopodiché arriva in volo un'altra femmina tutte e due assieme ripartono e Zaccaria chiede al Malach cioè all'angelo che c'è vicino a lui dove stanno andando e lui gli dice lo stanno portando in terra di Shinar che vuol dire terra di Sumer dove gli stanno costruendo una piattaforma sulla quale verrà posato quindi di oggetti volanti che si posavano sulle piattaforme la Bibbia parla chiaramente siamo nel libro di Zaccaria lo trovate nelle traduzioni nelle traduzioni vostre quindi il fatto di parlare di una rampa di lancio è quanto meno coerente con una serie di altri racconti biblici ed è coerente con il racconto di ciò che è successo a Sodoma e Gomorra che è una storia che ci viene raccontata per il fatto insomma come dire Dio avrebbe ucciso insomma sterminato quella popolazione perché erano dei sodomiti e quindi per sterminare dei sodomiti ha ucciso tutti i bambini donne anziani animali anche i bambini perché così si è portato avanti col lavoro perché tanto sarebbero diventati sodomiti comunque eccetera peccato che in Deuteronomio 29 c'è scritto che Sodoma e Gomorra sono state distrutte perché non accettavano più il patto di alleanza con Yahweh cioè stavano cambiando alleanza militare e questa roba qui è scritta anche in alcuni testi assiri dove si parla esattamente della stessa vicenda e si dice anche i nomi di quelli che sono intervenuti in questa battaglia c'era uno di loro che si chiamava Nabu che stava appunto convertendo la gente cioè stava portando la gente da un'alleanza ad un'altra allora interviene un altro che si chiama Nergal il quale Nergal arriva in volo sulle cinque città e su ciascuna di quelle sgancia l'arma dice lancia l'arma del terrore e tutte le città vengono annientate quindi combattevano tra di loro con le loro armi in questi racconti assiri tra l'altro studiate dal professor Roberto Bonchistiano che ha pubblicato un lungo studio su questo e l'uso di quelle armi tra l'altro è stato reso possibile perché erano armi molto pericolose e quindi potevano essere utilizzate soltanto con il permesso dell'alto consiglio militare quindi si è riunito questo consiglio ha dato il permesso di usare queste armi queste armi sono state sganciate e racconta il professor Bonchistiano che i capi che stavano a Eridu in Mesopotamia ad un certo punto sono stati costretti a fuggire da Eridu per non morire perché dicono che il vento del male sarebbe arrivato fino a qui chi avrebbe potuto predirlo? Cioè hanno rischiato secondo questi studi di essere uccisi dal fallout che loro non avevano previsto che sarebbe potuto arrivare lì e quindi hanno dovuto abbandonare i loro centri di comando per non morire e lì si dice che la gente moriva che aveva la bocca e che cadevano i capelli si bruciavano i polmoni la bocca e la testa si riempivano di sangue quelli che si chiudevano in casa per questa morte invisibile morivano come i topi e la Bibbia quando ci parla di Sodoma e Gomorra ce ne parla più volte per esempio ce ne parla a distanza di circa mille anni perché questa vicenda è del 2000 a.C. il professor Bonchristiano la colloca per tutta una serie di studi geologici dal 2025 a.C. prego sì anche certo e la Bibbia ce ne parla e ce ne parla ripeto a distanza di circa mille anni e dice che l'acqua in quel territorio è ancora amara ci dice che quel territorio è un territorio di desolazione e di cardi e nel libro della sapienza scritto 2000 anni dopo la vicenda ci dice che in quel territorio gli alberi da frutto portano frutti che non giungono a maturazione a distanza di 2000 anni da quel momento lì in avanti da Sodoma e Gomorra in poi non si ha più notizio di utilizzo di quel tipo di armi anche perché se hanno rischiato di morire poi evidentemente devono aver deciso di non usarle più combinazione è lo stesso periodo in cui nella valle dell'Indo si celebra la grande battaglia di Mohenjo-Daro che è una città che viene completamente distrutta dalle armi che in sanscrito si chiamano chiamavano Tejas Astras che vuol dire armi ad energia questo leggiamo fatene quel che volete se vi piace lo tenete se non vi piace lo buttate ciao ciao complimenti due curiosità cerco di essere rapidissimo la prima è possibile che una delle strutture del mondo antico i giardini messi di Babilonia fossero un gran Eden o magari un tentativo di riproduzione così come la comunificazione egizia cercavano di riprodurre di granazione per un governo maggiorno non sono in grado di dire sì ok ma se vuole scoprire seconda so che vado a toccare un terreno piuttosto pericoloso di 6 milioni di ebrei io c'ho una inclusità che mi gira di testa da un po' mi sono fatto una mia idea ma ovviamente non sono nessuno ma perché in calo ho lavorato Hitler visto tutto quello che si era detto prima eccetera eccetera so che mi pare come allora ti aspetto dopo però ti leggo una cosa grazie ma è vecchio sto foglio qui è tutto il sun quotidiano statunitense 6 giugno 1915 6 milioni di ebrei in Russia sono perseguitati cacciati umiliati torturati fatti morire New York Times 18 ottobre 1912 18 6 milioni di ebrei in Europa hanno bisogno di aiuto New York Times 8 settembre 1919 6 milioni di ebrei in Ucraina e in Polonia hanno ricevuto la notizia che stanno per essere completamente sterminati 1919 New York Times 12 novembre 19 6 milioni di ebrei in Europa sono stati ridotti in condizioni di povertà fame e malattia Atlanta Constitution febbraio 1920 raccolti 50 mila dollari per salvare la vita di 6 milioni di ebrei in Europa New York Times 1920 100 mila dollari per 6 milioni di ebrei che muoiono di fame New York Times giugno 1921 all'America si chiede di salvare 6 milioni di ebrei in Russia la gazzetta di Montreal 1931 6 milioni di ebrei sono di fronte alla morte nel sud-est dell'Europa New York Times maggio 1936 la comunità chiede che venga concessa la possibilità di rifugiarsi in Palestina ai milioni di ebrei che stanno soffrendo a causa dello European Holocaust 1936 si chiede alla Gran Bretagna di aprire le porte della Palestina agli ebrei che sfuggono all'European Holocaust 1938 6 milioni di ebrei in Europa privi di tutela e stanno lentamente morendo cioè quando Hitler succhiava il biberon c'era già chi scriveva che 6 milioni di ebrei in Europa sarebbero morti ma io vi ho letto a partire dal 1915 ma ho pubblicato in uno dei miei lavori tutti i riferimenti e i link degli articoli anche di riviste giudaiche che scrivevano di 6 milioni di ebrei alla fine del 1800 quindi quando Hitler non era ancora nato c'era già chi diceva che in Europa 6 milioni di ebrei sarebbero morti e 6 milioni di ebrei sono morti ma lo scrivevano da 50 anni prima quindi se io fossi un ebreo vorrei conoscere la verità su questa storia ma non sono un ebreo quindi vorrei conoscere la verità vera se così si può dire prego sì 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 certo allora facciamo le due considerazioni Elion ha in ebraico in sostanza lo stesso significato che Anu ha nella lingua sumera cioè quello che sta in alto quello che sta sopra cioè il comandante poi mentre la storia scritta dai sumeri è una storia scritta ad ampio raggio quella scritta nella Bibbia come ho detto prima riguarda questa famiglia che ha scritto la sua storia del suo rapporto con questo qui degli altri a loro non interessa nulla per questo motivo non si parla degli altri salvo parlare degli altri cioè di quei pochi a cui quei pochi Elohim a cui sono state affidate altri gruppi della stessa famiglia di Abramo e contro cui combattevano ok quindi per questo più che di discrepanza diciamo che da parte di questi che hanno scritto la Bibbia non c'era interesse a raccontare la storia generale perché a loro interessava raccontare la loro per quanto riguarda la storia del diluvio qui sarebbe interessante forse necessario capire se il diluvio a cui si riferisce la Bibbia è quel grande diluvio a cui si riferisce lei o come scrivono certi rabbini il secondo diluvio che sarebbe in realtà una sorta di alluvione locale provocata artificialmente per uccidere tutti quelli che stavano lì sotto e questa sarebbe da collocare sulla base delle testimonianze trovate da Leonard Wool in Mesopotamia degli strati di Ergilla intorno al 3200 a.C. quindi secondo molti rabbini la Bibbia non parla del grande diluvio ma parla di un secondo diluvio che potrebbe essere in realtà un qualcosa di molto localizzato ok quindi questo potrebbe avere sempre col condizionale potrebbe avere questa spiegazione va bene? c'è ancora una domanda buonasera volevo dire una cosa se era possibile che c'era una connessione tra la ristorazione e la quantità magari utilizzata da questi personaggi magari per dei film per dei film perché alla fine loro anche adesso il mercato per la gola si è sempre stato secondo me certo c'è qualcosa soprattutto per il fatto che sarebbe interessante che qualcuno riuscisse a spiegarci come degli uomini del Neolitico abbiano potuto avere loro spontaneamente accesso a loro capire che poteva servire a qualcosa a che cosa non lo so perché di fatto allora meno che mai non serviva assolutamente a nulla per gli uomini del Neolitico tant'è che il vero potere lo dava il ferro cioè chi era in grado di lavorare il ferro vinceva le guerre perché con loro non vince un tubo basti pensare agli ittiti eccetera se sono vere le testimonianze di queste miniere a cielo aperto scoperte nel centro Sudafrica che sono state datate 150.000 anni fa ci si chiede chi è che cercava loro 150.000 anni fa quando c'era l'homo erectus che loro non potevano neanche vederlo ma anche se lo vedeva dentro una pietra come poteva produrre le temperature per poterlo estrarre per poterlo lavorare eccetera quindi evidentemente questa roba qui deve arrivare da qualcun altro dopodiché è rimasto il discorso dell'oro tant'è che tutte le civiltà ci parlano dell'età dell'oro come quella importante e ci viene raccontato che l'età dell'oro era l'età in cui gli uomini e gli dèi vivevano a contatto tanto per cambiare ma proprio a contatto fisico nel senso che gli uomini lavoravano per gli dèi nella estrazione mi spiego e anche qui i testi sumerici raccontano che la parte più bassa delle gerarchie di quelli lì e qui sto parlando delle traduzioni ufficiali degli accademici non del così almeno evitiamo ogni contestazione arrivano allo stesso ma non ha importanza si dice che parlo delle traduzioni pubblicate dalla UTET eccetera quindi dei assirologi ufficiali si dice che appunto le parti più basse della gerarchia erano costrette a sopportare delle corvè pesantissime si sono ribellate in questa ribellione i capi hanno addirittura rischiato di essere uccisi quindi uno dei capi ha detto qui dobbiamo trovare qualcuno che lavori per noi uno dei due capi Enki insomma uno dei due fratelli figli di Anu il corrispettivo di Elion e ha detto ma qui c'è qualcuno che può lavorare cioè qui sul chi cioè sul pianeta c'è qualcuno che può lavorare per noi è sufficiente che gli mettiamo dentro un pezzo nostro e attraverso l'ingegnere genetista femmina Ninkurshag hanno messo dentro il pezzo loro e hanno fatto hanno cominciato a fare il sapiens cioè individui in grado di capire e eseguire ordini perché questo era quello che interessava e probabilmente hanno cominciato appunto a lavorare lì tant'è che poi la Bibbia ci dice che hanno preso la dam e l'hanno posta in Gan Eden ora la genetica concernente l'uomo ci dice che il sapiens o comunque le prime sarebbero comparsi appunto in centro Sudafrica ok il che ci spiegherebbe anche il fatto che poi hanno preso qualcuno di quei maschi di lì se lo sono portati nei loro Gan Eden per purificarlo ulteriormente produrre delle altre modifiche e quindi per esempio anche il colore della pelle eccetera 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 prego quelli della testa nera difatti i primi devono essere quelli della testa nera dopodiché hanno cominciato a fare altri che non avevano più le teste nere proprio come noi facciamo con gli animalucci nessuna differenza e quindi tutto questo di nuovo avrebbe un senso cioè laggiù laggiù hanno fatto i primi esperimenti perché laggiù hanno trovato gli individui su cui poter intervenire laggiù cercavano loro dopodiché per farsi delle specie per loro che lavorassero per loro nei loro laboratori hanno preso degli adam di là e lo posero in Gan Eden ok quindi questo corrisponderebbe a ciò che c'è scritto nella Bibbia e all'inizio effettivamente pare che cercassero loro perché tutti ci parano dell'età del loro cioè dell'età in cui uomini e dei vivevano a stretto contatto anche perché ripeto a nessun uomo del Neolitico poteva venire in mente che quella roba lì poteva servire a qualcosa quindi qualcuno invece doveva avere delle conoscenze molto precise per estrarlo lavorarlo e utilizzarlo perché forse non voleva essere identificato forse non voleva essere identificato cioè non voleva che si capisse chiaramente chi era lui tant'è che quando Mosè gli chiede chi sei tu dice perché io lo devo dire a quegli altri lui gli dà una risposta che è molto curiosa e su questa poi ci sono un sacco di labore lui gli dice eie asher eie che viene anche qui letta in chiave insomma in tutte le chiavi possibili immaginabili ma il significato più immediato è io sono quello che sono fatti gli affari tuoi punto cioè tu esegui chi sono io non te ne frega niente tu esegui i miei ordini stop cioè non farmi quella tant'è che sempre nella Bibbia pubblicata dalla giuntina che citavo prima quindi nella Bibbia ebraica in una nota c'è scritto che questo forse vuol dire che il suo nome non aveva importanza cioè come dire io sono il comandante tu non permetterti cioè fregatene di chi sono io non preoccuparti tu rispetta soltanto il patto esegui i miei ordini e quindi forse forse non voleva essere identificato allora c'è scritto che Dio maschio e femmina li creò esattamente allora quindi qui siamo di fronte quindi al racconto che riguarda il fatto che in origine quando hanno fatto il Sapiens l'hanno fatto sia maschio che femmina dopodiché c'è il racconto di come hanno fatto la prima femmina adamitica attenzione cioè la prima femmina relativa a quella specie lì che loro si sono fabbricati apposta per tenere nei loro laboratori ok ma i metodi sono uguali cioè io tra ciò che fa l'Isis e ciò che facevano gli israeliti nella Bibbia non vedo nessuna differenza leggete la Bibbia c'è scritto vi sgozzeremo sui vostri altari quindi sì cioè nella Bibbia c'è scritto vi sgozzeremo sui vostri altari distruggeremo i vostri altari non c'è differenza c'è differenza i metodi sono quelli lì cioè è inutile nasconderlo non lo so e se ci sono c'è nella Bibbia o comunque c'è di storici che dicono che finirà che hanno fatto questo Elohim allora nella Bibbia cenni relativi alla fine che possano aver fatto questo Elohim non ce ne sono nel senso che quello che si capisce che da un certo punto in avanti diciamo dopo l'esilio babilonese quasi pare che si sia perso il contatto nel senso che governavano attraverso dei rappresentanti che erano in realtà i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme Giuseppe Flavio nel libro Le guerre giudaiche ci dice che nel 70 d.C. quando i romani arrivano a conquistare Gerusalemme nel libro VI delle guerre giudaiche i sacerdoti che sono nel Tempio sentono un grande frastuono sentono una voce che dice noi abbandoniamo questo luogo e dice che fu vista una visione che se non avesse avuto tanti testimoni non sarebbe creduta carri celesti circondare la città tra le nubi e poi se ne vanno quindi ce lo dice Giuseppe Flavio che scrive nel primo secolo dopo Cristo la cosa curiosa è che esattamente lo stesso evento ci è raccontato dal più grande storico romano Tacito che ci dice esattamente che nel 70 d.C. la città di Gerusalemme è stata circondata da carri celesti lo dice Tacito tra l'altro questa roba qui la cito con tutto nell'ultimo libro Mondadori quello uscito una settimana fa il falso testamento lì cito anche un'altra cosa cito anche Plinio il Vecchio il quale ci dice che nel tempo delle guerre cimbiche quindi siamo 113-100 a.C. quando era proconsolo Gaio Mario nei cieli dell'Umbria è stata combattuta una battaglia tra due schiere di carri celesti una schiera che arrivava da oriente una schiera che arrivava da occidente e quella che arrivava da occidente è stata sconfitta Plinio il Vecchio possibile che siano stati trovati e fatti immediatamente sparire lega i libri di Jim Mars la nostra ma in italiano non c'è beh comunque se vuole dire in inglese e la nostra storia occulta dove racconta di tutta una serie di cose che ci sono ma non sono a disposizione professore il nostro DNA è un DNA matematico perché faccio l'esempio delle nascite nascono tanti maschi e tante cose in qualsiasi sono leggermente due o due due cose e questo è la nostra dei tempi che si è su è chiaro che quindi programmato secondo me c'è la mano di qualcuno ma l'ho spiegato prima se noi ci osserviamo bene siamo il prodotto della mano di qualcuno non solo della natura ecco diciamo così ma perché in america o in africa la natura è qualcosa di un'esempio poi questo nell'esempio mi è spiegato perché quando l'ambiente riunisce i campi e ammette anche la politica miglia perché nel deserto non era giusto che ci fossero due o due donne senza un'alito e cioè questo questo perché perché in tutti i paesi c'è questa questa matematica rispetto alle femmine sì sì ho capito è matematico sì 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 e ma secondo me i segni del fatto che su di noi ci sia una ma ci sia stata almeno ci sia stata una mano che è intervenuta con quella che questi genetisti tipo il dottor Pietro Buffa eccetera chiamano evoluzione pilotata esatto grazie 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 a tutti